Buonasera, ben ritrovati a Tutto Gola della Domenica, pronti ad analizzare insieme la giornata di campionato e intanto nell'attesa già lo studio era scoppiettante, poi tutti in silenzio soltanto però per pochissimo per darvi il nostro saluto, direi che ripartiremo ovviamente sì dalla partita della Fiorentina il pareggio contro il Verona ma sta per iniziare anche un'altra partita molto importante, uno scontro al versus, quello tra Napoli e Milan, chi vincerà supererà l'Inter in vetta alla classifica, Gianmarco Luccherini Ciao Erika, ben ritrovati a tutti, si infiamma Erika anche la lotta a Scudetto perché l'Inter vince l'altro giorno con un rotondo 5-0, stasera invece seguiamo Napoli-Milan che sta cominciando in questo momento la sfida tra Giroud e Ozyman, tra Spalletti e Inzaghi, ovviamente da stasera passa un importante tassello del crocevia per lo Scudetto Erika E ovviamente anche per quanto riguarda la Fiorentina un'importante fase del campionato per la corsa all'Europa, ne parleremo con i nostri ospiti, allora già pronti, top e flop di Giacomo Guiarini, tra poco li rivedremo, ciao Giacomo Ciao a tutti, buonasera Con noi stasera Daniele Amerini, benvenuto Buonasera a tutti Ex calciatore e procuratore, con noi altri due giornalisti, Matteo Dovellini Ciao Erika, buonasera a tutti Andrea Giannatasio Ciao, eccoci qua, grazie per l'invito E poi ascolteremo anche le parole di Vincenzo Italiano ovviamente ci proietteremo anche ad un'altra giornata molto importante domani l'annuncio, la presentazione del restyling del Franchi, del progetto iniziamo però dalla partita, quella che si è conclusa quest'oggi, il pareggio tra Fiorentina e Verona tra poco ascolteremo Vincenzo Italiano intanto però diamo uno sguardo a quello che è successo? Assolutamente sì, con l'ausilio della grafica Erika dei dati che ci fornisce Goalist facciamoli, agevoliamoli dalla regia Fiorentina intanto che, Erika, pareggia pochissimo però pensa che il 50% dei pareggi stagionali di quest'anno arriva con il Verona quindi effettivamente è una squadra, quella di Tudor che ha messo già in difficoltà al girone d'andata talmente godi la Fiorentina così come l'ha messa in difficoltà oggi Fiorentina che concretizza poco nonostante tiri molte volte ma non importa come appunto testimoniano le nostre grafiche e dei dati tratti da Goalist su questo tema però è tornato anche italiano vero? sulla poca concretezza, Erika Eh sì, è tornato italiano lo ascoltiamo tra poco intanto lo preparano dalla regia e la prima domanda però di questa sera è siete d'accordo con Pionte nel dire che sono due punti persi? Parto io? Sì, secondo me per il campionato che avrebbe dovuto dovrebbe ancora continuare a fare la Fiorentina penso di sì anche se ne parlavo con Daniele poco fa prima della diretta la Fiorentina quest'anno ha dimostrato di soffrire l'Ellas all'andata ma in generale le squadre che giocano un po' come il Verona eccezion fatta per l'Atalanta con la quale la Fiorentina ha ottenuto una striscia di risultati pazzesca con tre vittorie su tre quest'anno pur soffrendo in tutte e tre le partite ma nelle gare contro squadre che giocano più o meno simili all'Ellas quindi col 3-4-2-1 viene in mente il Torino viene in mente anche l'Udinese nella gara d'andata la Fiorentina ha un po' sofferto e oggi secondo me si è rivista un po' questo stesso copione c'è da dire che secondo me ha pesato un po' la partita molto dispendiosa per energie fisiche e mentali di Coppa di mercoledì però ripeto in virtù delle vittorie di Roma e Lazio e secondo me anche delle ambizioni legittime che ha la Fiorentina in questo campionato purtroppo sono due punti persi due punti che forse si potevano prendere se qualche scelta iniziale fosse stata fatta diversamente perché poi in corsa l'allenatore ha cambiato ha capito dove aveva secondo me sbagliato in effetti il secondo tempo è stato molto diverso Giacomo? Sì, io penso che il più grosso errore due punti persi o no? Vedendo la partita il pareggio è giusto alla fine perché il Verona ha fatto molto meglio nel primo tempo avrebbe potuto segnare il raddoppio e la Fiorentina ha fatto molto meglio nel secondo io penso che il grosso errore che non dobbiamo commettere dico a Firenze è caricare questa squadra di eccessiva responsabilità cioè pretendere l'Europa da questo gruppo l'ho sempre detto secondo me non è giusto io credo che la Fiorentina fino all'ultimo farà un buon campionato e poi vedremo se il campionato della Fiorentina varrà l'Europa però ecco cominciare da ora a guardare tutte le settimane quello che fa la Roma quello che fa la Lazio tu ridi ma è così secondo me è controproducente la Fiorentina sta giocando bene al calcio a mio avviso nell'ultima settimana è stata anche un po' sfortunata perché quando abbiamo vinto con l'Atalanta eravamo a fare fuori d'artificio abbiamo avuto sfortuna sicuramente a Reggio Emilia anche oggi per cui io credo che sia bene mantenere i nervi calmi goderci questa stagione e vedere alla fine quello che arriverà è troppo presto Daniele per vedere che cosa fanno le altre in corsa comunque per l'Europa il campionato è ancora lungo? sei d'accordo con Giacomo? sì sì no ancora è lungo io credo che la Fiorentina debba continuare su questa strada perché comunque sia secondo me ritornando al tuo discorso i due punti persi non sono solo oggi perché secondo me la Fiorentina in tutte le partite che ha perso ha sempre qualcosa da recriminare perché ha sempre fatto bene ha sempre fatto meglio degli avversari sta diventando un problema il gol degli esterni ma io dico anche delle mezzali perché comunque sia in un modulo come quello italiano oltre al gol e per fortuna abbiamo trovato più lontano che segna bisogna che sia gli esterni che le mezzali ti portino in dote alcuni gol quindi ripeto secondo me la Fiorentina ha sempre fatto le partite con tutti ha quasi sempre meritato di vincere e quando come queste partite come quella lo Sassuolo ma ci sono state tante altre poi non le vince è sempre qualcosa da recriminare giustamente secondo me ecco posso agganciarmi un attimo a quello che dice Daniele che chiaramente è un professore perché io mi inchino tra l'altro ha giocato anche a Verona a Daniele noi ce lo ricordiamo sì io me lo ricordo che ha giocato la Fiorentina però si ha giocato anche a Verona con italiano con italiano eh grande capitano grande capitano dell'Ellas italiano no dicevo che noi ci concentriamo sempre sui gol che la Fiorentina non fa che comunque sono tanti io credo sarebbe arrivato il momento anche di concentrarsi sui gol che la Fiorentina prende perché prende dei gol ma non è che prende dei gol perché siamo tutti avanti e becchiamo un contropiede cioè appreso gli ultimi tre gol a difesa schierata roba veramente che poteva essere evitata perché il fallo dal rigore di oggi di Milenkovi insomma è una cosa che poteva essere evitata l'autogol di Venuti l'altra sera era sicuramente una cosa che poteva essere evitata il gol di Reggio Emilia a difesa schierata era sicuramente evitabilissimo cioè queste sono reti che non si prendono per il gioco d'italiano si prendono per l'atteggiamento dei difensori allora va bene gli esterni però io fossi Nico Gonzales direi vabbè io ho segnato poco però ho preso 800 rigori ho fatto 2000 assist ho fatto ammonire spelle recalciatori mi volto e vedo dietro difensori che si addormentano difensori che fanno falli assurdi che perdono l'uomo quindi io credo che intanto si dovrebbe lavorare sull'attenzione e sulla concentrazione dei difensori della Fiorentina che concedono delle azioni a gol clamorose e che ripeto che non derivano dall'atteggiamento della squadra derivano proprio da degli errori marchiani individuali e purtroppo li fanno uno a volta uno una volta un'altro quindi non è neanche che si può dire è colpa di uno finiamo il giro Matteo per quanto riguarda questa partita Matteo Dovellini due punti persi sei d'accordo con Piontek con Amerini con Giannattasio e in realtà non è molto d'accordo Gianni no se te lo dico da tifoso sono due punti persi se vedo la partita al primo tempo uno a uno si è tirato un sospiro di sollievo un'attesa un tempo a testa direi sì sicuramente nello sviluppo della gara della gara è così il primo tempo insomma il Verona ha avuto delle grandi occasioni devo dire che però la Fiorentina continua a produrre molto continua a creare tantissimo di occasioni da gol continua a stabilirsi sempre nella metà campo degli avversari in altre quarti come diceva Daniele gli esterni offensivi sicuramente stanno mancando l'appello ma lui diceva giustamente anche le mezzale cioè l'italiano il suo gioco permette a tutti i calciatori di arrivare nell'area avversaria o comunque stazionare nella tre quarti avversaria devo dire che sta mancando l'apporto anche del centrocampio Castrovilli Castrovilli Torreira anche se Torreira oggi due o tre volte si è presentato l'errore sottoporta è piuttosto grave nonostante lui magari lì non debba esserci non è il suo ruolo però l'inseramento era stato eccezionale sono errori pesano Vincenzo Italiano ha parlato anche di Torreira ha detto non deve arrabbiarci lo ascoltiamo tra poco prima però le parole dell'allenatore sulla partita e anche su questa concretezza che manca davanti non sono contento del primo tempo avevamo un po' troppo contratti venivamo da una partita che secondo me ci doveva dare slancio furore quella con la Juve invece nel primo tempo un po' troppo contratti soprattutto dopo essere passato in vantaggio però nel secondo abbiamo reagito bene abbiamo avuto Torreira Piontec ancora Torreira 4-5 situazioni su palle vaganti che potevamo essere più svegli però mi prendo questa reazione secondo tempo mi è piaciuto tantissimo arriviamo da prestazioni di alto livello però manchiamo di concretezza perché anche oggi se ne abbiamo un pizzico di più potevamo far ancora più male al Verona però sono contento sono contento del secondo tempo io sorrido sempre tra l'altro a Giacomo Guerini che mi mette sempre in difficoltà ripartiamo sei tu ridanciano oggi è mio compleanno auguri auguri è il tuo compleanno allora tantissimi auguri lo faccio tutte le domeniche ma sei un pesciolino ti ascoltavi con interesse Vincenzo Italiano torniamo seri ovviamente ti facciamo i nostri auguri poi andremo a festeggiare però adesso invece ripartiamo dalle parole di Vincenzo Italiano ha detto quello che praticamente gli è piaciuto è la reazione nel secondo tempo la Fiorentina deve ripartire secondo lui da questa reazione sì c'ha ragione ha ragione ha ragione tra l'altro è strano perché la Fiorentina fa sempre dei primi tempi arrembanti e spesso e volentieri cala nella ripresa tant'è che nelle ultime gare ha preso gol proprio in extremis col Verona sia all'andata che oggi sono state due partite molto simili cambia solo il fatto che oggi la Fiorentina ha segnato prima invece a Verona ha rimontato col Verona è sempre partito meglio l'Ellas e questo ripete evidentemente è proprio una caratteristica delle squadre fisiche aggressive che danno noi a questa squadra la Fiorentina giusto non abbiamo nulla da aggiungere siamo rimasti ha fatto Cassazione ha detto è giusto ho detto tutto beh allora vi saluto anche se la sua partecipazione finisce qua fino al rigore fino al rigore di Milenkovic la Fiorentina mi sembrava abbastanza poi è chiaro va bene l'hai ripetuto molte volte Milenkovic l'errore di Milenkovic allora lo hai messo nei flop lo diciamo guardiamoli top e flop di Giacomo Guerrini come sapete non me li ricordo mai poi cioè tu li fai e fate gli scorti sì perché lei mi dice manda io li mando subito allora intanto vorrei dare un top fuori dalla lavagna e le due tifosi del club Valdarno per bellissimo striscione per venuti quindi applausi a loro applausi a venuti e applausi ai tifosi veri della Fiorentina vero allora nei top mette nei pionti perché segna con una regolarità impressionante terzo gol in quattro partite in quattro partite nelle ultime quattro partite conferma la media insomma impressionante aveva prima di lasciare l'Italia quindi bravo Piontek bravo Terracciano che ci ha mantenuto in partita facendo una grande partita parata su su Lasagna e bravo anche Sottil perché di quegli entrati mi sembra sia stato quello che ha dato più smalto più smalto bravo alla manovra negativi Malep perché ha giocato male Saponara anche e Milenkovic come sei veloci in questi top e flop ma lei e Saponara sono stati cambiati subito insieme a Econ alla fine del primo tempo segna avevano sbagliato partita e quindi insomma il giudizio su di loro è spesso l'allenatore più che il Guerrini e Milenkovic è un'ora e ve lo dico quindi è inutile continuare a dirvelo ecco top e flop sei d'accordo o meglio il tuo miglior in campo della Fiorentina e magari da chi ti aspettavi di più da chi ti aspetteresti di più Daniele a me oltre chiaramente Sottil è entrato bene anche se secondo me ha ampe margine di miglioramento può fare molto di più anche Sottil perché ha una secondo me una qualità che hanno in pochi questo si dice strappo sul iniziale su primi passi secondo me riesce a saltare qualsiasi avversario poi deve essere più concreto però quando nella finalizzazione nella rifinitura come come anche gli altri steri della Fiorentina Terracciano ha fatto una buona partita Milenkovic chiaramente pesa l'errore e Piontek quello che tocca in questo momento diventa oro anche se come partecipazione al gioco secondo me ha raccolto più di quanto ha seminato in quest'ultimo mese? chi la butta dentro alla fine ha sempre ragione però considera che ha sbagliato il rigore alla Spezia quindi poteva fare anche maggiore gioco però è chiaro sul piano del gioco non è neanche la sua caratteristica migliore anche se per esempio alla Spezia era piaciuto come era venuto incontro come aveva smistato anche di testa come si era sacrificato un po' di più anche in parte piuttosto che stare soltanto nell'area di rigore io credo che tutti gli attaccanti col gioco d'italiano secondo me anche Vlaovic un pochino lo rimpiange è un impianto ormai ben rodato dove tutti chi gioca gioca insomma si e sono due attaccanti diversi cioè Vlaovic veniva a prendersi il pallone apriva spazi tirava sulla squadra lui è un giocatore formidabile in area di rigore e oggi è stato anche fortunato perché poi il pallone è rimpallato su un giocatore del Verona e ha fatto gol non c'era nessuno praticamente a marcarlo oggi come in altre partite l'ho visto faticare quando era questione di tenere la palla e far salire i compagni su quello di migliorare l'avevo visto veramente bene veramente bene alla spezia come diceva Daniele cioè veramente lì mi sembrava quasi maturo mi aveva stupito per come si era calato nella realtà nuova effettivamente nelle ultime partite un po' un po' scemato tuttavia i numeri danno ragione 6 gol in 9 partite migliore dell'altro 3 la Coppa Italia 3 il campionato come diceva Giacomo nelle ultime 4 partite ha segnato 3 reti non ha segnato praticamente soltanto contro il Sassuolo ti ho interrotto? no no dicevo se migliora dell'altro devono preparare altri 75 milioni a Torino perché alla fine se no non esageriamo stavi intervenendo Matteo prima? sì no su quello che diceva dei top e flop perché sono d'accordo con Giacomo io avrei inserito anche Castrovilli mi sembra che nei top mi sembra che nelle ultime giornate stia tornando sui suoi livelli magari oggi non ha fatto una partita eccezionale però è veramente top scusate perché ha dato sostanza al gioco perché è in crescita ha dato sostanza e l'azione dalla quale nasce l'occasione mancata di Torrera è sua nel senso è Castrovilli che strappa e poi serve Caglione ma non solo mi è piaciuto molto anche come si è adattato io il vero Castrovilli dico la verità l'ho rivisto a Sassuolo per ora cioè basta nel senso poi ha rifatto due discrete partite ma il Castrovilli che conosciamo è quello che ci ha fatto vedere quando parli del vero Castrovilli quello di quello del primo anno quello del primo anno perché è un giocatore che ha delle qualità sono ampiamente sopra la media deve decidere uno per Castrovilli una partita non ci va a contentare gli manca qualche gol quello è secondo me in questo momento perché li ha anche fatti quello di Sassuolo Castrovilli Sassuolo ho rivisto il giocatore che salta con facilità tutto il reparto tutta la mediana della squadra avversaria appunto la difesa poi con la Juve oggi ha rifatto due discrete partite ma non rispetto diciamo al calo di aprile-maggio dell'anno scorso e all'assenza dei primi mesi di quest'anno ci inducono a dire che comunque è un giocatore in costante crescita tenendo presente manca 10 partite alla fine del campionato quindi è bene ergo che cresca veloce perché poi se no rischia di riesce e bambam questo poi è un altro discorso qual è l'obiettivo della Fiorentina quest'anno ma ne parleremo ne parleremo intanto invece coinvolgiamo alcuni tifosi Greta Beccaia fuori dal Franchi ha ascoltato il parere di alcune persone sentite meglio più onte che perché gli ha fatti il gol gli ha avuto l'occasione valida poteva fare qualcosa di più anche con me e anche tutti diciamo poi sai purtroppo c'è anche la stanchezza di mercoledì beh direi se si parla di calcio il Verona il secondo tempo la Fiorentina è venuta fuori un po' così arruffando metto un punto di domanda non lo so secondo me c'era un pareggio quasi scritto abbiamo espresso un bel gioco e il pareggio è risultato più giusto che c'è stato da parte della Fiorentina chiaramente è stata un po' il ritorno di quello con la Juve che si vedeva la squadra era un po' giù ok e Greta ha ascoltato sia il parere dei tifosi della Fiorentina e anche un tifoso del Verona certo che un tema comunque di questa sera che affronteremo anzi potremmo anche già iniziare è l'ingresso di Gonzales quando è uscito Piontek non è entrato Cabral ma Gonzales cosa vuol dire questo è una bocciatura per Cabral è comunque un rinvio a giudizio diciamo così oppure semplicemente serve tempo per questo giocatore ma ora mi sembra di aver sentito prima che l'italiana abbia detto che aveva un problemino poi non so Cabral non era al 100% ha detto non so se è così se non è così però anche le scorse settimane ha detto che comunque non è al massimo della forma ancora non è ancora pronto per stare in questa Fiorentina quindi non è al 100% che cosa significa può essere anche interpretabile penso una questione di forma fisica perché fisicamente nel senso di come posso dire di sanità a livello fisico sta bene non è infortunato non ha avuto dolorini non ha avuto problemi credo sia una questione di ambientamento di squadra e di forma fisica non so se tu Daniele l'hai visto un po' pesantito secondo me non gli è piaciuto come è entrato con la Juve ah ok no come idea per esempio la Spezia invece era entrato molto bene anche a Reggio Emilia con il Sassuola con la Juve sembrava quasi che trotterellasse nei 20 minuti in quattro ore non mi ricordo questo è un tempo perché ha giocato poco potrebbe essere concludi no no potrebbe essere magari la lettura l'allenatore l'ha visto non al top comunque non si è di poi ha sbagliato ha sbagliato a non metter Cabral perché la Fiorentina sostanzialmente con Gonzales Falzonueve ha smesso di giocare di essere facile ragionare col senno di poi probabilmente l'anno scorso non ha vinte tante per esempio con Agudelo che lo metteva a fare il Falzonueve quindi sai la verità a volte apro e chiudo parentesi perché abbiamo poco tempo poi dobbiamo andare in pubblicità e ripartiamo invece proprio da questo argomento perché vorrei affrontarlo bene tu hai fatto riferimento alla Juventus da un punto di vista della prestazione di Cabral da un punto di vista psicologico per la squadra invece quanto magari può condizionare può aver condizionato in questa partita è anche per questo che comunque sia Vincenzo Italiano ma anche Pradè hanno fatto spesso riferimento alla parola reazione è piaciuta la reazione no allora è chiaro che mentalmente una squadra la squadra ha preparato questa settimana la partita di mercoledì non quella di oggi poi finita la partita di mercoledì è chiaro ributti la testa su quella della domenica però l'evento della settimana era quello con la Juve quindi un po' secondo me di calo di tensione c'è stato quindi alla fine poi con appunto la reazione del secondo tempo comunque ne è venuta fuori un'altra buona prestazione della Fiorentina contro ricordiamo una buona squadra che ha messo in difficoltà tante squadre forti quindi la prestazione ripeto c'è stata anche oggi le occasioni ci sono state anche oggi chiaro forse è stata meno scintillante del solito però è stata sempre una buona Fiorentina beh ma il fatto comunque di subire gol anche alla fine comunque anche nelle partite può comunque da un punto di vista psicologico condizionare un po' no? è capitato ultimamente diverse volte perché Empoli a novembre Juventus a novembre Sassuolo settimana scorsa Juventus in settimana Napoli in Coppa Italia inizia a essere una consuetudine questo calo di tensione che non capiamo se sportiva se psicologica degli ultimi minuti da cosa può dipendere? lo chiedo all'unico ex calciatore in studio Daniele ma veramente io ho un passato un passato dove? a casa mia a casa tua a corridoio con la pallina di gomma a piuma secondo me diciamo gli avversari iniziano anche a conoscere chiaramente pregi e difetti della Fiorentina ripeto quest'anno secondo me molti più pregi e difetti e un un difetto che poi non è un difetto secondo me è quello che la Fiorentina ha un grande dispendio di energie per il modo in cui gioca del che fa di solito un'ora ad altissimi livelli nella magari nella mezz'ora finale probabilmente le squadre aspettano magari fanno i cambi per cercare di cambiare la partita può essere una chiave di lettura quella anche se ripeto il caccio non è matematico ha vinto all'ultimo minuto ha vinto a Spezia ha vinto a Bergamo cioè è una squadra se la gioca fino alla fine quindi ci sta ogni tanto di prendere ogni tanto di farlo secondo me Poggio e Buca fanno pari come direbbero Oxford sempre Poggio e Buca fa sempre pari comunque proprio su questo calo di tensione è maturata purtroppo la sconfitta in settimana con quell'autogol quell'autorete sfortunata di Lorenzo Venuti che oggi si è visto subito veramente un senso comunque di di gruppo di compattezza intorno al giocatore esatto anche dello spogliatoio esatto tra i vari Rosati Castrovilli oggi però Lorenzo Venuti ha ringraziato così sul suo profilo Instagram appunto il sostegno ricevuto in questi giorni dalla città Fiero è orgoglioso di essere uno di voi e sotto notiamo un'adesione importante ai diversi colleghi tra i quali c'è Rosati c'è anche Leonardo Capezzi quindi questo è fondamentalmente il gruppo che esce anche dopo la sconfitta di mercoledì mi fai dire una cosa assolutamente vedevo che voleva entrare sì no mi risulta che siccome in Chiesole oggi hanno esposto un bellissimo striscione se non erro del Viola Club Valdarno perché c'era che ha ringraziato prima Guerrini ecco mi risulta che il giocatore a fine partita abbia ricevuto in consegna dopo la gara al centro sportivo lo striscione se lo si è portato a casa e questo l'aveva già detto Giacomo? no aveva messo tra i top questa è una pandetta che aggiunge Giannattasio è importante perché vuol dire che è venuto c'è la casa grande perché c'è la casa grande lo striscione è una grande partita Guerrini aveva semplicemente inserito la curiosità è che il giocatore abbia ricevuto in dono dal Darno questo striscione che terrà immagino per sempre se lo merita anche perché comunque tu c'eri allo stadio mercoledì l'uscita dal Franchi dopo due ore in lacrime l'ho incrociato l'ho incrociato nel parcheggio dei campini e io avevo finito di lavorare lui pure anche se a lui era andata peggio di me e era devastato veramente e mi veniva quasi da abbracciarlo ma ora col covid meglio di no ma poverino l'ho visto veramente distrutto e sono contento che comunque oggi ho fatto una partita da sei non era una partita facile anche perché il corone nel primo tempo non gli ha dato certamente mano e sono contento che comunque si sia preso questo plebiscito sicuramente da un punto di vista psicologico per lui era certamente una partita particolarmente importante sembra banale dirlo per la reazione restate con noi dobbiamo separarci per un piccolissimo bec per la reazione da Euronix rottama e rinnova anche inventirate a tasso zero LG OLED TV 48 pollici a 899 euro LG Nano Cell TV 55 pollici a 599 euro e paghi a settembre Euronix un mondo più avanti a 599 euro Io sono una. Unica. Io sono le mie scelte. Anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra e Scelta Pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una. Ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia. Naturalmente. Scopri Scelta Pura Luce Gas su Estra.it La fine è incisa a Valdarno. Aperto da lunedì al sabato e ogni prima domenica del mese. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. C'è chi pensa ad un contributo per il nostro futuro. Chi ha creduto in me e nelle mie potenzialità. Chi non si è dimenticato di me. Chi fa crescere l'economia sostenendo le imprese. Con personale qualificato sempre a disposizione. Banca Alta Toscana. Sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore. Ed eccoci tornati in diretta intanto 0-0 tra Napoli e Milan. Possibile rigore al quinto che poi non è stato ravvisato. Però se è fatto male Giroud. Ma per chi? Per chi rigore? Per chi? Fronte Milano. Rigore per il Milano. La scampire è un nevergreen. La scampire è la situazione. Come nel 2013. Ecco. Ma c'è un caos totale in studio. Quindi ripartiamo però. Ci mostri per favore lo striscione? Sì, allora, visto che ne ha parlato Guerrini, ne ha parlato Giannattasio, ecco lo striscione che oggi è apparso in Curva Fiesole. Come fai a stare a casa di Venuti sto striscine? È lungo, è lungo. In cortile, in cortile, penso che ripiegato, ma magari lo tiene. Ma secondo me in camera lo potrebbe dire. Lo tiene, lo tiene. L'altro credo sia di lì lui, no? Del Valdardo. Sì. Lui è nato a... A Montemarque. Cioè, dove l'avresti messo tu, Daniele? Ti avessero regalato un'espressione del genere? In che parte della casa lo avresti... Sono un appartamento, quindi... Cioè, tu l'avresti piegato e messo in un cassetto? Vabbè. In una cassa panca? Eh, non me l'avrebbero fatto, quindi... No, non è vero. Il giornatore veniva dalla primavera, c'è sempre stato un grande affetto. Ma non hanno mai fatto uno striscione? A Merini si butta giù, ma... No, no, a Firenze me lo fecero uno... Coscritto? Coscritto? Sa che me lo ricordo. Come? Le è rimasto nel cuore. No, ha scritto a Merini, vattene. Sono vecchio, sono vecchio. Vabbè, dai, pensaci che magari poi vediamo se riusciamo a ritrovarlo. Lo ripeschiamo, lo ripeschiamo. Esatto. Parlavamo però della situazione attacco, la sostituzione tra Piontek e Gonzales. Quindi non è entrato in campo Cabral al posto di Piontek. Allora intanto l'ha spiegata così, Vincenzo Tagliari. Il cambio di Nico, speravo in qualche situazione in verticale, dove Nico è velocissimo. Poi abbiamo iniziato anche ad alzare qualche pallone, nel gioco aereo lui è forte, speravo in qualche sua spizzata. era questa la lettura. Cabral ancora non è a livello fisico al 100%, quindi l'ho pensata così, speravo in qualche situazione in velocità da parte di Nico, ma non si è mai innescata ed era stata questa la lettura. Nemmeno io. Beh, pensavo insomma alle verticalizzazioni di fatto, potesse essere efficace e Gonzales in questo, però poi non ci sono state molte occasioni in questo senso. Si è un po' spenta la partita secondo me in quel momento lì, c'è stato qualche fallo in più, un po' calato il ritmo, quindi probabilmente è chiaro, la mossa non ha avuto gli effetti. Quindi è un esperimento fallito, dici? O comunque da non riproporre? Da non riproporre non lo so, ripeto, l'anno scorso con Agudelo a Spezia ne ha risolto diverse, col Milan. Sì, ti ricordi Aniele, parlava italiano anche quando c'era Vlaovic, dicendo che nel caso in San Mancare, un calciatore come lui, è stato influenzale, metti qualsiasi cosa, l'idea era di mettere Gonzales come falso attaccato. Sì, anche perché a quei tempi non aveva nessuno. Non aveva nessuno. Non ce ne voglia a cocorre. Secondo me questo ci fa pensare che effettivamente Cabral in questo momento non era da inserire perché altrimenti... Io credo che lui, tra virgolette, ce l'abbia un po' con Cabral, perché... Sì. Cioè, no, nel senso, deve essere successo qualcosa in questa settimana, perché se Cabral entra a Reggio Emilia, comunque segna... La Fiorentina sta pareggiando, ha bisogno di far gol. E invece di mettere un centro avanti, mette Gonzales, secondo me può esserci qualche problema. Secondo me ha dato la risposta da Daniele prima, cioè con la Juventus quell'impatto non gli doveva essere piaciuto particolarmente. Quando il livello è molto alto, anche di competizione della squadra, i particolari fanno una differenza, quindi siccome, io credo, l'italiano, ma anche gli allenatori guardano molto l'allenamento, guardano molto le prestazioni, probabilmente ha preferito da spazio che si era allenato meglio. O comunque, avendo davanti Ceccherini, Gunter, Casale, hanno fatto, se ne aveva una buona partita, gli serviva un giocatore un po' più di movimento, un pochino più sbarazzino, che poi alla fine spesso Gonzales andava sulla fascia anche. Quindi comunque tu fai riferimento alle caratteristiche dell'avversario e non ad una bocciatura temporanea. No, no, non penso che sia una bocciatura. Soluzioni tecniche, diciamo. No, anche perché tra l'altro Cabral fino ad oggi ha fatto veramente bene tutte le volte che è entrato, poi il titolare è stato soltanto con la Lazio, però anche le altre volte a me era piaciuto, effettivamente con la Juve, ma non era una gara facile, ha fatto qualche timido passo indietro, però forse è ancora una posizione fisica. Perché la Juve non è che aveva fatto un partitone, quella non era una partita che c'è entra avanti, erano in senare di rigore. Mai vista Piontek, sì. Guardiamole a questo punto, Erika, i numeri di Cabral, in grafica però, perché abbiamo titolato in grafica Cabral, bocciato, rimandato o bocciato, e mi sembra che la tesi dello studio sia quella che propenda per il rimandato, non è una bocciatura, ma ecco, i numeri semplicemente al momento non sarebbe pronto. Al momento italiano preferisce ad un giocatore che comunque è stato comprato, con 14 milioni investiti su di lui e che fa parte a tutti gli effetti della rosa della Fiorentina, gli preferisce un giocatore in prestito, seppur con diritto di riscatto, quindi Piontek su sette gare, lo ricordava Giannattasio prima, una sola da titolare con la Lazio, col colpo di testa nei primi 20 minuti, tre presenze e un gol. Però il tema è questo, che non solo gli preferisce Piontek, ma addirittura, come oggi, anziché mettere lui, preferisce gli esterni. E si torna allora, Erika, al discorso sempiterno della concretezza degli esterni. Vediamolo in grafica, perché gli esterni della Fiorentina, in termini di capitalizzazione, non sono proprio tra i primissimi. Vediamo i numeri degli esterni, molti dribbling, ma pochi gol. Gonzales, uno dei giocatori più pericolosi, molte volte al tiro, però i numeri parlano chiaro, un gol ogni quattro partite. Stessa cosa, dicasi per Iconè, un gol ogni nove partite addirittura. E Saponara, un gol ogni sei. Se Gonzales facesse davvero un gol ogni quattro partite, farebbe nove gol a campionato. E' vero. Che fa un gol ogni quattro partite, c'è la Serie B tedesca. Esattamente. Questo è il problema. Perché questa stagione ne ha fatti due, se non erro, no? Due gol. Sì. Però Dovellini, che io leggo con attenzione sulle qualità, tutti noi leggiamo sommissioni Dovellini. Una bella pagina, un po' di tempo fa, perché a Firenze è così, si fa. Non segna mai, non è buono. Poi non segna nessuno la Fiorentina, il giorno dopo, la cooperativa del gol, l'hanno fatto con i sedici. Tutti in gol. Beh, comunque la Fiorentina è la cooperativa del gol. Quando c'era la settimana su, lui ha fatto un bel pezzo su Gonzales, che è vero ha segnato poco, ma ha provocato non so quanti rigori. Il 40% dei rigori. Il 40%, che sono tutti i rigori quelli che prende lui, non banali. 4 su 11. Il piede pestato sulla riga a Bergamo, il rigore che prende a Bologna, cioè non è che sono rigori... No, no, ma in termini di... Allora, se fa il secondo calciatore che riceve più falli, ha fatto 6 o 7 assist, è comunque un esterno... Il calciatore che prende più falli, credo, è il secondo in tutta la serie. Quello che ha detto Dovellini ora è in posta. No, ha studiato, ma soprattutto Giacomo... Ma tu gli rispondi anche? Certo, ma perché tra i due c'è un rapporto gerarchico, no? Perché lui era l'ex direttore di Dovellini. No, io non sono mai stato direttore. Il direttore di Repubblica. Va bene, ma di fatto è come se tu lo fossi stato, no? Vabbè. Però il direttore di Repubblica, no? E Maurizio Molinari. Maurizio Molinari. Fate come se foste a casa propria. Insomma, quindi Matteo. No, e Giacomo... Ha ragione. Passando da me, voleva dire che effettivamente, al di là dei gol, il lavoro che fa González in campo, il lavoro che gli sterni non te lo fa nessuno in questa Fiorentina, è un lavoro enorme. È chiaro che poi ci voglia anche un calciatore che finalizzi e in questo momento sta mancando. Al di là di Pionte, che sta facendo benissimo, manca un altro, un altro, un due o tre calciatori che, insomma, possono inserire... Che sono loro, ma potrebbe essere anche Buonaventura. Non un altro, due o tre. Sì, perché poi la cooperativa del gol, è vero, sono 17 giocatori che vanno in rete. C'è un dato di fatto incontrovertibile, è che finché c'era quel signore con la maglia 9 del 2000 ti mascherava tante cose, o comunque il gioco era tutto finalizzato su di lui. Nel momento in cui non c'è più... Ti può nominare, ti può nominare. Nel momento in cui non c'è più Vlaovic ti devi inventare qualcosa. E viva Dio che Pionte comunque i suoi gol li sta facendo. Certo è che la Fiorentina, che ha un gioco in cui gli esterni hanno un valore strepitoso e fondamentale, ha puntato su dei giocatori, e ci metto anche Icone che è arrivato da poco, che ahimè per ora, ma non solo a Firenze, anche prima, non avevano nel loro bagaglio tanti gol. Cioè non parliamo né di Berardi né di Caprari che oggi ha fatto gol ed è a quota 10 in stagione, né sul quadrato. Sì, è la prima volta in tutta la carriera e Caprari fa un campionato così. Però ha un esterno e fa gol. Quindi ha puntato sui esterni, bravi, ma non col vizio del gol. Poi sono convinto che arriveranno, perché l'Italiano è bravo, ha migliorato praticamente tutti, migliorerà anche Gonzalo e Zecone. Sì, sì, comunque insomma anche pochi giorni fa ha ribadito questo fatto, mi si aspetta che arrivino più gol anche da parte degli esterni e che la pazienza sì, ma fino a un certo punto, va detto anche nel post partita di qualche partita fa. Sì, sì, assolutamente. Io però Caprari per esempio quest'estate l'avrei preso, quando è andato via dalla Sampdoria, mi sembra che sia arrivato al Verona negli ultimi proprio giorni. Sì, perché l'hanno presa al posto di averlo venduto alla Lazio. Esatto. Io l'avrei preso, sinceramente. Ora, ora, scusami. Come riserva. Ora, ora, riserva. Direi che è presto per... No, 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 è tardi per parlare del mercato di gennaio, perché sono morto. No, 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 è solo in estate. È presto per parlare del mercato di gennaio passato e è presto per parlare del prossimo. Assolutamente. Quindi non possiamo parlare. Anche se in studio abbiamo chi di mercato se ne intende e lo vive quotidianamente. Le azioni si preparano prima. Quindi? Quindi si stanno già muovendo. È presto, ma non troppo presto. No, si stanno già muovendo. Per gli addetti ai lavori, no? No, assolutamente. Quindi si staranno muovendo in che direzione, secondo te? In generale o la Fiorentina? La Fiorentina. La Fiorentina in che direzione? Non lo so, insomma. Cioè, non lo so. Finge di non sapere, Amerini. Finge di non sapere. No, più o meno, secondo me. Mettiamo il secondo te. Secondo te? Secondo me, allora, dipenderà molto da Cabral come riuscirà a fare da qui alla fine. Se riuscirà, io credo che sia un buonissimo giocatore. Quindi potrebbe essere il futuro centravanti della Fiorentina. Pionte credo si stia meritando il riscatto, quindi credo è davanti e sei a posto. Probabilmente cercheranno un esterno con più gol se rimane questa struttura qua anche tecnica. Io credo cercheranno un terzino sinistro che possa comunque alternarsi con Biragio. Comunque mettergli il fiato sul collo. Probabilmente un difensore centrale. E in mezzo anche, credo, il riscatto di Torreira sia da cercare in tutti i modi. Quindi praticamente in tutte le zone del campo? Ma credo siano. Ma per migliorare la squadra comunque secondo me è un pezzo per il reparto. E non diventerà il tuo. Il portiere, anche il portiere. Sul portiere, secondo me, qualcosa stanno... Ponsando. No, Terracciano sta facendo benissimo. Eh. Anche lui, secondo me, al di sopra di quello che si pensava. Ha dato grande affidabilità. Quindi non c'è un problema portiere, secondo me. Credi che Drongoschi però possa partire? Penso di sì. Fai riferimento a questo? Penso di sì. Penso che visto insomma come sta andando anche il campionato, ma credo sia anche il giocatore che probabilmente chieda andare via. E quando dici Cabral pensi che sia l'attaccante, insomma, il bomber del futuro della Fiorentina, quindi credi che comunque poi le gerarchie possano cambiare e che lui sia il titolare rispetto a Piontek? Io penso di sì. Come caratteristiche, come crescita magari in prospettiva del giocatore nel campionato italiano? Penso che abbia maggiori margini di crescita a Cabral per diventare, diciamo, un centravanti top per la Fiorentina. Vedo... Ospina a terra. Ah no, intanto Ospina a terra a Napoli. Si sta intensificando, quando siamo giunti al trentasettesimo, il forcing del Milan, che ha fruttato poi due ammunizioni tra le azzurie. Per Giroud tutto bene comunque. Sì, sì. Per Giroud tutto bene che continua a giocare e tra l'altro ha steso in questo momento Ospina. Vediamo in un... Devo dire che farsi travolgere da Giroud non deve essere simpatico. Non deve essere simpatico. Come faccio Ospina, vedo che sta, insomma, ecco, sta ovviamente subendo le ripercussioni. Però sempre 0-0, al trentanovesimo, Erika, due ammoniti per gli azzurri, Ramani e Coulibaly. Beh, insomma, questa partita è veramente un big match. Quando si dice, no? Big match. No, la nuivo. Sale in testa alla classifica, superando l'Inter, che ricordiamo però, ha una partita in meno da recuperare, la partita contro il Bologna. Ecco, prontamente la regia, Leonardo e Gabriele Calderone al coordinamento, ci propongono la classifica. Lo ricordiamo ancora una volta. Anche l'Atalanta ha una partita però da recuperare contro l'Udinese. L'Udinese che dovrà recuperare una partita anche contro, ovviamente, la Fiorentina e l'Inter contro il Bologna. Le tre dell'Avemaria, Erika. Eh, a cui faceva riferimento Allegri. Bleffando, forse, quando dice, no, noi non ci contate per la lotta a Scudetto, non ci pensate. Dice impossibile, impensabile, però, ovviamente, ognuno poi cerca, no, di fare il massimo che può fare. Con tre davanti, è difficile, sai, se ne avesse una, se ne a tre davanti, che si fermino tutte e tre, la vedo difficile. Anche se ha questa, con lo Spezza, che ha vinto, ne ha altre due facili, poi ha lo scontro con l'Inter. Se per assurdo fa dodici, no, tre oggi, altri nove. Sì, anche perché davanti stanno tutte e tre frenicchiando, eh, quindi, mette loro un oro da tanto. Mentre stanno andando più velocemente rispetto alla Fiorentina in questo ultimo turno di campionato, le squadre, comunque, davanti, no, in zona Europa. Le due romane hanno vinto, ha vinto la Roma contro proprio l'Atalanta nella giornata di ieri all'Olimpico. Ha vinto anche la Lazio, l'abbiamo visto prima dalla classifica, insomma, il margine, la distanza con la Fiorentina è aumentata. Ne parliamo tra poco. Prima, però, stavi intervenendo, Andrea. No, no, a proposito degli attaccanti, a Nuivo, perché secondo me Cabral, essendo un investimento importante che ha fatto la proprietà, ed essendo alcuni giocatori di cui tutti gli addetti lavori, almeno a me, hanno parlato bene, sono convinto che possa essere un giocatore importante. Dalla prossima stagione, però, così come penso che González, che è stato pagato tantissimo, secondo me lo vedremo al meglio l'anno prossimo, perché quest'anno tra infortuni, Covid, qualche espulsione, i ritorni dalle nazionali che quest'anno sono stati massacranti perché si doveva recuperare le gare saltate durante la pandemia, lo si è visto pochissimo. Quindi io credo che l'anno prossimo la Fiorentina avrà a disposizione al massimo delle forze tanti degli innesti sui quali ha investito quest'anno a gennaio o la scorsa estate, perché è stato un periodo di rodaggio. Detto questo, secondo me il grande investimento dell'anno prossimo, quindi in estate, verrà fatto in difesa, verrà comprato un forte centrale difensivo. È un'opinione o sai qualcosa? No, no, so qualcosa, so che la Fiorentina sta cercando un forte centrale difensivo perché penso che vendrà Milenkovic, molto semplicemente per questo. Su questo Stefano, da casa, chiede ad Amerini, che prima faceva finta forse di non sapere dove si muovesse la Fiorentina, ti fa una serie di nomi. Tra i difensori ti dice, per Amerini ti faccio quattro nomi per rinforzare la difesa. Cui a te, conosci? Sì, a me ti dico, prima di mi nomi. Cui a te. No, ero distratto. A me sembra di essere l'insegnante a scuola con i bambini al barco, che parlano tra loro e disturbano. Salutando Stefano da casa, c'è un vitigno a centrocampo. C'è un? Vitigno. Un vitigno? Vitigno. Portoghese. Re, quant'è? Se vede dentro. No, non c'è vitigno. Allora non è... Pensavi fosse un tuo amico che scrive la faccia di segnalare. Vogliamo riportare all'ordine? Sì, riportiamo all'ordine. Gianmarco, l'elenco di questi difensori... Sì, ora non è inutile fare l'elenco. No, centrocampisti. Centrocampisti chiedono di Savanier, chiedono ad Amerini e di cui a te per la difesa. Nomi per la difesa. A me piace Senesi di quelli... Quindi Stefano non è azzeccato nemmeno uno. No. Stefano, non ci siamo. No, no. Amerini boccia tutta la tua linea. No, a parte di scherzi. Senesi hai detto... Vabbè, dai, diciamo rimandato Stefano. Rimandato Stefano, non ne hai preso neanche io. Ben Feyenoord. Però dicevi Senesi? Di quelli che sono usciti, chiaramente. Di quelli che sono usciti, diciamo, i nomi... No, di quelli, diciamo, dei nomi appetibili per la Fiorentina. Fatti e rifatti. E di quelli ancora non fatti? Ora, così, penso all'aspervista, ora mi viene molto bene. Non si è d'accordo. Sai d'accordo... A me piace molto Senesi. No, no, dico, sai d'accordo sul fatto che comunque... La Fiorentina necessiterebbe di inserimenti praticamente in tutti i reparti. Allora, facciamo un giochino così. Ecco, un giochino, dai. Mettiamo e la Fiorentina riesca a tenere Odiozola. Mettiamo. 20 milioni servono. Vabbè, comunque, va bene. Allora, teniamo Odiozola. A sinistra c'è Birachi, portiere oggettivamente se prende... Allora, i centrocampisti devono essere sei, perché tre giocano. Torreira lo teniamo? Direi di sì. Buonaventura lo teniamo? Direi di sì. Castrovilli lo teniamo? Chiedo, sì. Sì, sì, sì. Ma lei lo teniamo? Io lo tenerei. Bene. Poi arriva Zurkowski. Io non lo so se la Fiorentina lo confermerà, per quello che ho capito. Zurkowski? Penso che non sia un giocatore... È visto un po' come un doppione di Castrovilli-Malè. Quindi, secondo me, è un giocatore... È un grosso errore questo, secondo me. Vabbè, comunque... Potrebbero fermarsi. Allora, lì ci dovranno comprare almeno un centrocampista. In attacco, gli esterni ci sono, cioè, Gonzales, Iconè, Saponara resta, ditemelo voi. Eh, attenzione, allora... Non lo so. Sottile resta, quindi eventualmente c'è da comprare. Aspetta, Andrea. Sì, Giacomo, perché Andrea sa qualcosa. No, Saponara va in scadenza a fine stagione. Si doveva discutere del rinnovo di uno, penso, due anni. Ora non se ne sa più niente. È un po' in calo il giocatore, lo si è visto sia con la Juve sia oggi. Io avevo parlato con la dirigenza Viola che mi aveva spiegato che quando andava bene Saponara, cioè quando fece quel gol col Milan, strepitosa. E loro mi dissero, lui se lo deve guadagnare, non può fare 3-4 partite, deve farne 15-18. E ora lo vedo un po' arrancare. Secondo me è un giocatore di grande talento che spesso può essere utile, però in questo momento secondo me non è la prima cosa che impiama la Fenty. Mettiamo che resti lui a fare il quinto esterno. Va bene, la Fenty deve comprare un esterno. Ancora esterno. Quanti esterni vuoi? Ma che non va via il prossimo episodio. Va via, però. Quindi ci vorrà uno più forte per prendere il posto di Aikon e poi l'investimento va fatto su centrale difesa. Ma poi ci siamo. Cioè la cosa importante di questo campionato secondo me è che ci sono le basi per avere una Fiorentina che stabilmente sta nel gruppo delle formazioni all'Ottam per andare in Europa. Non mi sembra poco. Tra poco parliamo dell'Europa, di questa corsa all'Europa. Che poi all'Europa League o alla Conference League? Dal tifoso della Fiorentina, saresti contento di vedere la Fiorentina in Conference League? Meglio che nulla, marito vecchio, come se vuoi dire. No, voglio dire, perlomeno si guarda la cosa. Sono le pedagli di sagenza cucoliche. Poi pensate anche ai nostri tifosi, a questi tifosi bellissimi che finalmente possano... Io ho degli amici pazzi, stanno a cercare gli ari che costano meno e magari volano su Malta, poi girano da un'altra parte perché con 10 euro riescono a andare a vedere. E vanno all'estero a vedere le partite. Va benissimo. Dopo abbiamo una grafica su questo, perché la Fiorentina potrebbe, Erika, arrivare in Europa, però a questo punto sembra, soprattutto alla luce del risultato di oggi, sembra che la Prodo possa essere esclusivamente la Conference. L'Europa League... No, c'è l'Atalanta in trollo libero. Ecco la qua. L'Atalanta ha frenato molto in ultime partite e poi ricordiamo che al di là del risultato, dell'andata e del semifinale di Coppa Italia, è giusto anche che i tifosi della Fiorentina continuino a sognare perché poi c'è comunque il ritorno, non è tutto deciso. No, sì, assolutamente. Coppa Italia sì, però ecco la grafica... Che anche quella, anche la Coppa Italia può essere una strada per l'Europa. Si parla chiaramente. Un'Atalanta in caduta... Non in caduta lì, però in... Ha giocato senza attaccanti, eh. Ed è un mese ha giocato senza attaccanti. Ha perso due scontri diretti con Fiorentina e Roma. Le Romane che iniziano a viaggiare. La Lazio, soprattutto nelle ultime partite, è molto bene, 10 punti con tre vittorie e un pareggio. Ecco, questo è un po' lo stato dell'arte della Corsa Europa. La Fiorentina è stata affortunata, poteva avere 10 punti anche la Fiorentina, quindi stiamo tranquilli. No, dicevo, facevo riferimento alla Coppa Italia anche in caso comunque di sconfitta della Fiorentina, perché poi a calare... Coppa Italia può succedere di tutto. Sarebbe la successiva in classifica ad andare in Conference League, qualora comunque la vincitrice... Se si ragiona però sul campionato, il target, statisticamente parlando, nelle ultime cinque stagioni per arrivare in Europa, è 62 punti, che quest'anno significherebbe Conference League. Significa che la Fiorentina, nelle prossime 11 partite, deve fare almeno 19 punti. Sì, che vincere 6, pareggiarne una e perdere 4. Ma non solo, deve sperare però che una di queste tre abbia una defiance, terzo non dato, perché su questo una delle tre deve scontrivere. deve crollare. L'Atalanta ha frenato molto nelle ultime partite. Ma sì, ma con calma, una cosa per volta. Vabbè, ma io racconto i fatti. Io racconto i fatti e tu mi bacchetti. No, io non bacchetto non volare. L'Atalanta comunque ha rallentato, lo possiamo dire? È inutile mettere le pressioni sull'Europa, mi fate le tabelle per l'Europa, allora se no mi sconfesserebbe. Per me l'Atalanta è la migliore di quelle. Ha giocato senza muri, Zapata, Quindi a retto, a retto dici tu, bene o male. A retto, a retto insomma. Guardando i risultati, ha rallentato il suo ruolino. Poi l'Atalanta c'è anche l'Europa, se non sbaglio. Certo. Io devo dire, ho visto molto bene da Firenze in poi la Lazio e mi sembra che ora non avendo più né Coppa Italia in Europa League, la Lazio sia un avversario destinato a prendere il largo. Avevo visto Maluccio da Roma, devo dire che la vittoria di ieri sull'Atalanta invece è stata molto convincente, molto e è fastidioso perché credo che purtroppo la Roma possa aver trovato un po' la quadra. Con il gol di Abram. Sì, c'è la partita a Firenze da giocare e quella sarà una gara molto importante. Finito il primo tempo a Napoli, è 0-0. Sì, tra Napoli e Milan. Quindi, secondo voi, praticamente si sta iniziando a vedere il gioco di Sarri e la mano di Sarri e la Lazio. Ci ha messo poco. E quella di Murigno nella Roma, ricordiamo che poi tra l'altro ieri non era in panchina a Murigno. No, mi credo che Murigno possa diventare pericoloso chiaramente anche lui nel finale di campionato ha un'esperienza, anche se in campo non va l'esperienza, però la rosa della Roma, secondo me, è superiore a quella di Fiorentina. anche se Murigno dice di no, perché si lamenta sempre dei giocatori che ha, mi sembra di... Sì, tra l'altro facendo anche Arachiri dal punto di vista... Insomma, sono giocatori che poi svaluti, no Giannattaro? Anche dello spogliatorio... Non volevo interrompere Amerini. No, no, ci sia. Diverse volte ha criticato i propri giocatori. La dirigenza della Roma non credo che apprezzi tantissimo questo approccio dell'allenatore. Quello non lo so, però ho visto tutto il pubblico dalla sua parte, è molto bravo in questo. Però io credo, come il rosa forse sia superiore, la Fiorentina gioca meglio della Roma. La Roma ha fatto una buona partita all'Atalanta. Quanto ancora può crescere la Fiorentina secondo te in questa stagione? Mi rispondi però dopo la pubblicità. è una buona partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono Estra e Scelta Pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una, ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri Scelta Pura Luce Gas su Estra.it. Sono il dottor Nicola Paoleschi. Da oltre 30 anni mi occupo del sorriso e della salute dei denti vostri e della vostra famiglia. Nei nostri centri risolviamo i casi complessi con le tecniche più moderne, meno invasive e non ultimo a costi accessibili a tutti. Studi dentistici Nicola Paoleschi. La tecnica unita all'esperienza. C'è chi pensa ad un contributo per il nostro futuro. Chi ha creduto in me e nelle mie potenzialità. Chi non si è dimenticato di me. Chi fa crescere l'economia sostenendo le imprese. Con personale qualificato sempre a disposizione. Banca Alta Toscana. Sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore. Io sorrido sempre, sembro pazza, però tra poco vi mostreremo una foto inedita. La stiamo preparando. Hai mai fermato i conè? No, problemi di lingua tra voi? Oggi si è fermato da solo perché si stava scattando col pallone. Ma che è successo? Sembrava un bug. Non lo avevamo capito, però poi l'italiano ci ha detto che ha avuto un problemino all'adduttore. Allora, ti blocco perché lo ascoltiamo. Vincenzo Italiano ha parlato così di Icone. Con Icone è poi così, in piena serenità. Non gioca perché non gioca. Spiego i motivi perché non gioca e perché non è utilizzato. È una questione di adattamento ad un calcio diverso, a una proposta di un allenatore che lui adesso conosce da pochi mesi, diversa. È un adattamento a tutti i sistemi di gioco, a come viene ad affrontarti l'avversario. Devo dire la verità, pronti via. Ha sentito un dolorino all'adduttore. Secondo me è stato condizionato da questo. Poi ho preferito mettere gente fresca per cercare di iniziare su quest'uno contro uno di Sottil. La capacità, anche l'intelligenza di Cagliecon che stava fruttando il gol di Torreira. Quindi ci può stare. Ci può stare essere un po' non brillantissimi. E penso che i tre cambi hanno dato una svolta alla partita perché nel secondo tempo noi meritavamo di far gol. Questa è la verità. Abbiamo visto, in senso di Cagliecon, un po' polemico, possiamo dire così. Ragazzi, ma italiano, c'ha la pazienza di un certosino. Alla fine non ne può più nemmeno lui. Prima perché un gioia non è, ora perché a me si non è. Non va bene nulla. Non se ne può più. Io non è affatto due partite spaziali a Reggio Emilia e con la Juve. Oggi comunque ha giocato male, però il gol di Pionte che viene dalla finta sua, ha un tiro ribattuto e si sta ambientando. Qui non è possibile, appunto, la operativa di gol non si segna mai. Io non è gioco, non gioco. Ci vorrebbe un periodo più di equilibrio, ecco. Ma quali sono i titoli che i due vellini ha nel suo cavo pronti? Non ne hai di... No, su Iconè vogliamo sapere. Quelli su Iconè. No, su Iconè è un calciatore che aveva bisogno di tempo per adattarsi. Vedi, Cabral, perché su Iconè ha usato quasi le stesse parole l'italiano, è un calciatore. Se non erro, disse di lui che Platinic aveva messo cinque mesi a ambientarsi nel calcio, nel campionato italiano. Per dirti il paragone, nel senso di quanto poi è un calciatore proveniente da un altro campionato, con altri sistemi di gioco, eccetera, eccetera. Poi abbia bisogno di tempo. Quindi, insomma, calciatore mi sembra che ultimamente stia incidendo. Ora, al di là del gol che oggi è arrivato da un tiro suo, e al di là che il fatto che oggi forse fisicamente non stava benissimo, però se lo metti in titolare vuol dire che adesso sta iniziando a trovare continuità anche lui. E io penso che abbia tutti i numeri. Sui gol si può rivedere perché non ha mai fatto tanti gol con E, neanche quando giocava in Francia. Però è un calciatore che ha dei numeri, mi sembrava... Ricordiamoci, non tanto tempo fa, a Firenze, al posto di Ionè, giocava Gil Diaz, Toledo e Mirallas. Quindi, insomma, stiamo tranquilli perché, diciamo, c'è stato un upgrade, no? Sicuramente. Che giocatore è Ionè, Daniele? Ionè è un giocatore... Secondo me anche lui è forte, chiaramente deve... È una banalità, lo stiamo dicendo tutti, deve chiaramente trovare maggiore confidenza con il gol. Però è un giocatore che ti dà anche soluzioni alternative, sia a partita in corso che dall'inizio. Ti può fare, secondo me, anche la mezzala. Quindi è molto brava a venire dentro il campo, meno, secondo me, andare, diciamo, sul fondo alla vecchia maniera. Anche se ormai, secondo me, il gioco d'oggi vediamo quasi tutti gli esterni non arrivare mai sul fondo, ma rientrare e ricominciare il gioco sempre da dietro. Quindi è uno di quei giocatori, secondo me, che può fare il salto di qualità alla Fiorentina perché basta fare i conti che se la Fiorentina gli mette due gol di quello, due gol di quell'altro, 4-5 di Conè, appunto, secondo me la Fiorentina ha 5-6 punti in più. Poi scusate, ora, tutti hanno detto che con la Juve ha sbagliato il gol e Conè, ma se fa quei gol, già, lo stadio non gioca, perché se ne ha giù il bandone, lì non ci si gioca più. Ha fatto una cosa che non è contro la Juventus, finta in corsa, ha domesticato la palla, ha stappato la palla, ha messo all'incrocio, ha preso il palo e si è detto a sbagliare un gol fatto. Va tutto bene se quella palla va 10 cm più là, oggi a Firenze non si gioca perché lì, veramente, altro è architetti. No, voglio dire, ci vuole un po' di pazienza, questo è un calciatore che ha dimostrato avere numeri, di essere fisicamente stradipante, quindi io direi perché gioca, perché è bravo. Superficiale, fa una grandissima cosa, sembra quasi che si specchi nella cosa che ha fatto e magari non rifinisce con la stessa cattiveria. Beh, lì sono i casi, probabilmente, in cui comunque poi successivamente anche in conferenza stampa ha parlato nel modo in cui abbiamo raccontato Vincente Italiano e poi se parla così in conferenza stampa possiamo solo immaginare quello che poi potrà dire direttamente al giocatore, no? Voglio dire, tu ce lo racconti anche per esperienza, no? Spesso gli allenatori poi quello che devono dire, ovviamente e giustamente lo riportano nello spogliatoio. Soprattutto il, diciamo, il brutto, il brutto se lo dicono nello spogliatoio, magari il bello se lo dicono anche davanti alle telecamere, ma insomma, quando c'è da riprendere il giocatore sicuramente non lo fanno davanti alle telecamere. A parte Murigno. Quale tra le risciacquate che hai avuto durante la tua lunga carriera, quella che proprio ti ricordi, quella me la ricorderò per sempre? Ma io mi ricordo una di Guidolin a Vicenza in cui mi mise davanti Fuschietto, dice, se giochi così non ti faccio il giocatore. Ti mise davanti proprio all'evidenza, insomma. Gioi così, via. Cosa disse se giochi così tu? No, 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 ti faccio il giocatore. Così disse. Lo spogliatoio però. Quanti anni avevi? Venti, venti. Guarda, guarda quant'anni aveva. Eccoti, guarda, un giovanissimo Daniele Amerini. Guarda che capolino. Con questa bella chioma. Quindi tu così, in questa guisa... Poi non ho mai avuto i riccioli, non capisco perché mi ha avuto il capolino per il riccio. Vabbè, fai... Perché è Otero. È Otero del Vicenza. In questa guisa concepito fosti messo da Guidolin davanti al fatto compiuto e ti mando via se non giochi, se non ti dai da fare? Tra l'altro prima della partita con la Fiorentina. Ah. Quella che si vinse, e feci tra l'altro una buonissima partita, quella che si vinse a Vicenza 3 a... Si vinse 3 a 2, non mi ricordo. Sì, mi dice, tipo, ti do l'ultima possibilità o... Probabilmente era anche una cosa per... E poi hai giocato contro la Fiorentina? Sì, sì, no, no, mi feci giocare, feci anche una buonissima partita. Esatto. E cosa si prova a giocare contro la squadra che si tifa, si può dire così? O comunque una squadra, voglio dire, una realtà che si conosce bene, no? Che si è vissuta. Sì, no... Ci sono secondo me due sentimenti contrapposti, perché chiaramente giocare contro la squadra per cui fai il tifo... Prove emozioni forti, no? Vorresti essere di là. Poi io ero venuto via da poco, quindi... Infatti, guardiamo, ero venuto via da poco, guardiamo. Un altro da Diego Amierini, età? Qui? Qui con l'occhio bieco. Con l'occhio bieco. Era mattina presa. Qui era poco prima, no? Questo è il 93, mi sembra, sì. Eh sì, l'anno della serie B? L'anno primo o l'anno due anni prima? L'anno della B? Della retrocessione? No, qui era... No, questo è l'anno della... L'anno della retrocessione? No, no, questo è l'anno... Ah, ok, l'anno precedente. Dopo la promozione della B? Ok, ok, ok. Quindi provi due sentimenti contrapposti, perché ripeto, io sarei rimasto chiaramente molto volentieri alla Fiorentina. Primo anno andavi anche in proprietà, secondo invece poi mi compro a Vicenza. Dall'altra, secondo me però, c'è anche un senso di rivalza a volte, no? Che dici, ti voglio far vedere che hai sbagliato, no? Magari, che poi l'avremmo fatto bene. Ma non si butti giù così, così. No, 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 si fa perdere. Ma lo anticipiamo, abbiamo un'altra fotografia da mostrare? Ora mi metti un po' in difficoltà. Non è pronta? Qual è la... Ah, sì, no, non è pronta. Tra poco, sorpresa, sorpresa, perché questi nostri potenti mezzi la stanno elaborando. Qualcuna più bellina, perché me ne avete messe due. E queste sono quelle che passano in commento, Merini, su. Vabbè, ma tu giraci le fotografie che hai ancora, hai ancora, ma hai ancora in rubrica alcune fotografie dell'epoca? Io ho una grande foto con Daniele in un ristorante, centro di Firenze, con grande Ciccio Baiano. Ma tu da piccolino? Faccio bella quella con Batistuta, Flachio, quella che è bella. Ma tu, no, non ho capito. Tu mi dai un assist così con Batistuta, che insomma è a Firenze, lo sappiamo, domani sarà presente. Ora te la mando. Dai, mandaci anche questa fotografia. No, quella non l'ho mandata io. Vabbè, visto che stiamo parlando del passato, tu, lo abbiamo detto anche prima, hai giocato insieme a Vincente Italiano. Che giocatore era? Che cosa ci puoi raccontare di lui? Da giocatore in campo e fuori? Era, secondo me, un grande regista. Aveva un calcio della palla impressionante. Sia il tiro da fuori, sia il cambio di campo. Quindi era un grande regista, secondo me oggi avrebbe fatto una buonissima carriera, ancora migliore in Serie A. Probabilmente per gli standard moderni, forse anche se Torreira è piccolino, anche lui non aveva un grandissimo fisico, però compensava perché era anche bravo tecnicamente e anche piuttosto cattivo. E più era giocatore di personalità, tanto che poi dopo che gli andai via credo abbia fatto anche il capitano a Verona abbastanza giovane, quindi probabilmente aveva anche in sé già i doti da allenatore. Era già in parte allenatore, aveva già queste caratteristiche da giocatore. Un giocatore comunque gioca a mezzo al campo, con personalità che gli piace comandare. Era già leader. Sì, era già leader nonostante fosse giovane, nonostante in quella squadra c'erano altri leader con più esperienza, chiaramente. Ha nominato Torreira, tu hai fatto una domanda proprio su Torreira? Gli ho chiesto che tipo di partita ha fatto perché mi sembrava che Caprari lo avesse asfissiato fin dall'inizio, praticamente andandogli a puntare tutte le volte che aveva la pallata ai piedi. E poi gli ho chiesto un po' come ha vissuto dalla panchina e se poi ha detto qualcosa al giocatore dopo le due o tre occasioni che Torreira ha sbagliato, perché poi sono errori quelli che ha... Ha detto lui non deve arrabbiarsi, non si arrabbia. No, sono cose che proviamo in allenamento, poi nel secondo tempo gli ho dato più la possibilità di sentire l'italiano. Dai, lo ascoltiamo. Vincenzo Italiano ha parlato così di Torreira. Torreira purtroppo deve capire che le squadre preparano le gare, le strategie e quando giochiamo contro questo sistema il play è praticamente marcato a uomo. Era un po' arrabbiato perché non riusciva a trovare spazio, a trovare palloni giocabili e allora abbiamo preferito nel secondo tempo dargli più libertà, andare ad invadere l'aria. È stato bravissimo perché in due situazioni penso che se avesse avuto un po' più di qualità nell'esecuzione poteva far gol, però lui ce l'ha, ce l'ha, l'aveva fatto col Genoa, in altre situazioni riesce a essere tempista e riesce a colpire la palla. Avevamo provato a far questo, ci stava riuscendo, stava riuscendo anche la situazione con Cagliecon, con il destro, con questi traversoni. Peccato perché ripeto il secondo tempo mi è piaciuto tantissimo da parte dei ragazzi. Sarà riscattato Torreira? Secondo te? Io quando dico secondo te alludo insomma alle informazioni che voi avete ovviamente. Il calciatore pare abbia fatto intendere come stia benissimo a Firenze nel gioco di Vincenzo Italiano, che sia un calciatore che insomma avesse voglia di tornare nel campionato italiano dopo l'esperienza non eccezionale che aveva passato negli ultimi anni. Io penso che ci sono tutti presupposti per il riscatto. 15 milioni di euro è il riscatto fissato dall'Arsenal, c'è il prestito con diritto, la Firenze sta lavorando in queste settimane per vedere se riesce a trovare una soluzione anche migliore di quella dei 15 milioni di euro, però insomma tutto mi sembra tutto apparecchiato per il riscatto. È chiaro che in questi casi, vedi per esempio Drio Sola, soprattutto lui sia determinante l'accesso all'Europa. Magari con Torreira meno, ma con calciatori come Drio Sola è determinante. Da poco vado anche da Daniele. Sono d'accordo, sì, io penso che la Firentina su Torreira si sia già mossa, così come il suo Drio Sola, perché almeno il suo Drio Sola ho incrociato il suo intermediario poco tempo fa al centro sportivo. Lei incrocia tutti Giannato, ma lei vive per strada, è un uomo della strada. Si piazzano lì davanti, con le tende e via. Quindi no, sicuramente si sta portando avanti, indubbiamente la Firentina ha anche le casse piene per motivi piuttosto chiari, quindi può anche permettersi di programmare. Su Drio Sola non lo so se sarà decisiva l'Europa. Secondo me sarà decisiva il volere del Real Madrid. E il Real Madrid cosa vuole? Il Real Madrid ci vuole pensare molto bene, perché mi spiegava il suo intermediario, che è Bozzo, che dopo la delusione Theo Hernandez, la delusione a Kimi, che sono passati chi più chi meno dal Real sono andati via e sono esplosi altrove. Si guarderanno bene dal privarsi. Vogliono valutare molto bene quello che farà Drio Sola a Firenze. Il giocatore, per quanto so io, ha detto, se il Real mi richiama io torno a Madrid, perché io sono di quel club lì e torno lì. Se però, se il Real non mi vuole con questa intensità, io a Firenze sto benissimo, resto a Firenze. Intanto, mentre Daniele scorre, le fotografie. Ne abbiamo una molto interessante. Sul cellulare, magari ce ne invia qualcos'altro. Una ne abbiamo già. Sarà determinante il raggiungimento o meno dell'Europa per il futuro di Odrio Sola a Firenze, quantomeno? Secondo me sarà determinante quello che decide il Real Madrid, perché comunque è chiaro che quando si muove una società come il Real Madrid. Bisogna capire se il Real Madrid cerca un profilo, diciamo, migliore anche di Odrio Sola. Odrio Sola lo riporta in casa, però, insomma, io credo che il futuro di Odrio Sola possa essere a Firenze. Il futuro di Odrio Sola a Firenze, è importante questo. Vabbè, per te Torreira resta sicuramente, mentre Odrio Sola no. Torreira, anche se volessero fare una biega operazione di mercato, Torreira adesso valga di più della cifra a cui la Frentino riscatterà. Certo. E quindi, fosse solo per quello, lo comprerei. Però prima Dovellini parlava di un'operazione di limatura. Eh, proveranno a pagarlo un po' meno. Due o tre milioni. Si faranno forza della volontà del calciatore, il fatto che qua sta bene, e proveranno, se uno va a comprare una casa, prova a dare un po' meno o meno. Poi, si sa che comunque, con 15 milioni, la Frentino lo prese. Quindi, direi che su questo siamo tutti abbastanza tranquilli. Altro discorso su Castrovilli. Pensare che qua si era fatto le barricate perché non si era preso Sergio Oliveira. Te lo ricordi, è gazzuso. L'anno scorso. L'anno scorso, quest'estate, sembrava che... Sì, sì. Castrovilli ha cambiato procuratore. Punto di domanda. La butto lì. Io ho visto l'espressione di Daniele. No. Amerini. No. Chi è ora il procuratore di Castrovilli? Lucci. Non ti voglio spiegare? Lucci, amico di Pradesi. Non è che non voglio spiegare. Anche Minieri, amico di Pradesi. Anche Minieri. Lucci li ha fatti tutti la squadra. Tra l'altro, secondo me, gli ha fatto un ottimo lavoro. Ora io, poi, non c'è i suoi motivi per cambiare procuratore, c'è i suoi motivi. Insomma, il lavoro che ha fatto Minieri su Castrovilli, io credo, insomma, guadagna un sacco di soldi, comunque, per il giocatore che è stato... Anche un giocatore a pallone, direi bene, no? Per questo punto. Ma quanto è cinico quest'uomo? No, a parte di... È cinico. È 10 della Fiorentina. Quest'anno ha fatto fare il percorso... Secondo me ha fatto fare il percorso... Attenzione, rete del Milan, Napoli, che ha segnato... Girù, girù, girù. Allora, vediamo appena possibile anche la classifica, come sarebbe al momento, la classifica aggiornata, con i tre punti al Milan, che dunque scavalcherebbe l'Inter, che ricordiamo ha una partita da recuperare contro il Bologna. Vediamo se sarà... è convalidato, sì. Il disappunto di... sì, sì, il tiro dalla distanza, adesso lo rivediamo, credo, di destra. Dove lì ne ha dei dubbi su fatta per segnalare Girù. E questa è la classifica aggiornata, con 60 punti al Milan, a 58 l'Inter e il Napoli, con questa sconfitta, resterebbe a 57 punti. Vediamo perché... No, no, non ha segnalato Girù, ragazzi. Ma come lo, quanta la devia? Ah, sì, la deviazione. Come in Zaghi in finale, lo dì, per cui. Sì, sì, è vero. La deviazione. La distanza di Girù e dunque... Aspetta, aspettate. Napoli, Milan, 1-0. Stessa importanza della gara. Allora, il tiro, Erika, il tiro è stato di Calabria. Assiste, quindi, per chi c'è, è fantastico. Facciamolo a raccontare, dai, a Gio Marco. No, niente, intanto notiamo, ovviamente, il disassunto di Spalletti. Ci sono dei pazzi che hanno Calabria fatto a calcio. È Calabria da sedici. Tiro dalla distanza e zampata di Girù in posizione regolare, però sul filo del... Regolare, regolare. Regolarissimo. 1-0 a Napoli, lotta a Scudetto che inizia ad entrare nel vivo. Quindi Milan che torna più 8 dalla Juve, no? Quanto è adesso? Ti ho appena fatto vedere la classifica. Adesso vediamo la casifica. La mostriamo di nuovo. La classifica, la classifica, va bene. Grafica, grafica. Tu sei. 60 punti il Milan, 58 l'Inter, Napoli 57, quindi? Via grafica. Via grafica, abbiamo visto. Abbiamo visto. Da meno 16 a meno 7, però. Eh, non male, chapeau. Stavamo parlando di Castrovilli. Puoi concludere, anzi, del cambio di procuratore di Castrovilli. Concludiamo il ragionamento che poi cambiamo argomento, Daniele. No, ho detto, ripeto, poi non siamo nelle dinamiche del rapporto, ma io credo che Minieri gli avesse fatto un ottimo lavoro, quindi a volte bisogna avere, secondo me, anche un po' di riconoscenza verso gli agenti, perché se i giocatori cambiano gli agenti come, come si dice, come nocciolini. Come mutante. Questa di Amerini è bella, perché fino ad oggi si era detto che devono avere gratitudine per le società, i giocatori, invece adesso si chiede gratitudine per gli agenti. No, più che altro perché io, 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 Minieri, me lo ricordo, quando fu lui che ha portato a Firenze Gaetano, nel 2000, c'era già Corvino, perché lui fece uno stage per il diareggio, c'era ancora Pradè, poi fu comprato da Corvino. Sì, si, 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 fu comprato nel gennaio 17, io me lo ricordo, era un ragazzino, praticamente poi fu mandato in primavera. E veniva sulla strada anche in quel caso, lo aspettavi. Arrivò insieme a un altro talento del Bari che era Scalera, Scalera poi si è un po' perso. Scalera, un pochino? Dov'è Scalera ora? Era in Sereci nel Lazio. Ma non ti curar di loro. Ma guarda e passa. Quindi no, per dire, come diceva Daniele, che effettivamente servirebbe un po' di riconoscenza. Purtroppo tanti procuratori che spesso seguono i ragazzi, fin dalle giovanili, poi quando arrivano a un certo livello cambiano. Ragazzi, pensavo a Buonaventura, cosa ha fatto con mio amico Martorelli. Ci sono... Pensavo a quello. Siccome sembra, proprio ci si rimane, cioè, uno cresce, cresce un giocatore. Senza fare nomi. No, facciamo nomi, non è senza fare nomi. Nomi, nomi. Sono rimasto... No, nomi non li faccio perché non è giusto, però secondo me, a volte possono cambiare anche giustamente, perché comunque un percorso con un giocatore non è sempre lineare, ci può essere anche degli errori del procuratore. Però ci sono dei percorsi invece fatti bene e secondo me quello, ripeto, quello di Minieri con Castrovilla è un percorso fatto bene. Quindi nella logica del rinnovo con la Fiorentina... Cambia un procuratore perché arriva uno che gli promette qualcosa o gli dà qualcosa o... Ma calcolando che Castrovilla è a scadenza nel 24, non nel 23, ma nel 24, che segnale è questo? Amerini, Giannattasio, Dovellini, Guerrini, che ieri i colleghi del Corriere Fiorentino titolavano proprio facendo il focus su questo. Io credo che centino... ma poi non entro perché sono vicende private, appunto centino vicende private. E mi fermo qua, non c'entra molto la gestione sportiva del giocatore. Ok, quindi come ha detto Amerini? Credo anch'io. Punto. Beh, a questo punto ci sta una curiosità, ma andiamo alla pubblicità in un'altra. Tu dici, ce lo facciamo raccontare comunque. Poi dopo vediamo... Ma questa fotografia è arrivata, è arrivata, è arrivata. La mostriamo? La mostriamo? Ne sono arrivate due. Dai, intanto mostriamole una. Una è viola, una è viola. Ma dove sei? Eccolo qua, con questa zazzera. Guarda che cappello qua. Mamma mia. Senti. Riconosciamo soprattutto chi è accanto anche, ma... Quello sotto? Non vedo. Non vedo. E' Carnage Not. Faccenda. Faccenda, Mario. E dell'olio. E dell'olio. Questa stagione 90... Anni qui, veramente un bambino sei. 93 mi sembra. Questa fu la 93. La stagione sempre solita. Quella è quando siamo andati in Serie B, mi sa. Quella da 7 up, se era in BPM. Ma ne abbiamo un'altra. Ne abbiamo un'altra. La prepariamo. La prepariamo. Sì, la prepariamo immediatamente. Vediamo se... Perché non è viola l'altra, l'altra è bianconera. L'altra è bianconera. Eccola qua. Vabbè, quindi non facciamo nomi, però ti è capitato, tu dici, nel tuo percorso. Ma dove è sta foto? Arriva, eccola qua. Eccola, eri prontissimo, già. Sì. E dove dobbiamo guardare? E qui è dura. Dove dobbiamo guardare? Io sono... Allora... Latitudine e longitudine. Mi sembra quello in mezzo. Mamma mia, che difficoltà. Non ti riconosci. Perché è bianconera? Eh, quale? Terzo da sinistra dopo... Cioè, due dello staff e poi... Uno, due... Ah, eccolo qua. No, devi dar bene le coordinate. Eccolo qua. Guardate, eccolo qua. Altrimenti... Ma dove? Sto cercando di... Ma scusate, ma è il Verona questo? Questo è il Verona. Sì, sì. Perché dice bianconera? Ah, no, scusate. Scusate, me l'ha parso. No, via. Lui ha visto lo staff e si è confuso. No, sai perché... A Verona la stanno facendo curma per i appiccati. La maglia suddinese del 97-98. No, allora... Ci puoi... E' a trei. E' a trei, esatto. Ci aiuti, per favore. Ma guarda, puoi mettere anche il Real Madrid. Non si vede nulla. Abbiamo il Real Madrid. Sì, sono qua, sono qua. Sono qua. Con la freccetta puoi, per favore, indicarci... Ah, ecco. Eccolo qua. Sembra di essere dall'oculista. Ma le spreco... Ma che italiano? Dov'è italiano? Vincenzo è italiano? C'è, dov'è? Primo in basso a destra. Il primo in basso a destra. Ah, mamma mia, ragazzi. Vincenzo è in basso a destra. Lui? Lui è amici, è italiano, dici? Chi era l'allenatore? Prandelli. Eccolo qua. Prandelli. Dov'è Prandelli? E' in mezzo, eccolo qua. Ah, sì, sì, certo. Scusate, si sta parlando, ma c'era Mutu lì. C'era anche Mutu. Eh, allora scusate, per tre ore c'era Mutu quella scala. Non c'era. Ma Guerrini, sa perché mi sono confuso? Perché lo sponsor era Treiu, lo stesso dell'Udinese 97-98, Biroff. Eh, qui abbiamo le chicca. Ora è diventata una convention di centrodestra. Esatto. Ma questo dopo. Vabbè, ragazzi, ora si sta prendendo una deriva. Prima sponsor calcistico, poi. Mostriamo ancora una volta questa chicca. La fotografia del Verona. Ma l'abbiamo già vista? Stagione, mi hai detto, ridini la stagione. Quella è 97-98. 97-98 forse, perché Daniele non è convinto. Con Daniele Amerini e anche Vincenzo Italiano. Prandelli. Ha caricato tutte e due, Prandelli. Beh, insomma, era bella la fotografia. Bellissima. È bellissima. Io farei la puntata solo su questa fotografia. Facciamo la fotografia su tutte le fotografie di Amerini. Però mostriamo ancora una volta anche l'altra, accanto a Batistuta. Sì, però mi chiedi degli straordinari. Perché? Perché voglio anche collegarmi. Per coniare un'ottima trasmissione di Lady Radio, che conduce l'amico Guerrini. Archivi polverosi, questa è Archivi Amerini. Esatto. Archivi Amerini. Anni Amerini. Adesso ve la rimostrevo di nuovo. Eccola qua. Con la torre di maratona ancora non ristrutturata. Raccontaci qualcosa. Dai, di Batistuta. No, Barti era un individualista sicuramente come, che è stata secondo me anche la sua fortuna quella di pensare molto a se stesso ma in senso positivo, perché comunque si è migliorato. Io me lo ricordo. Ti interrompo un attimo, perdonami. Così, è exabrutto. Sì, perché è colpa mia, ma è colpa, ma devo andare in pubblicità, poiché non vorrei darti poco tempo per rispondere, ma vorrei ascoltarti bene. Lo facciamo tutti tra pochissimi. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Dormivo poco e male. Poi, il mio farmacista mi ha consigliato Laila, farmaco di origine vegetale che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve e a favorire il sonno. Laila, più spazio alla vita. Banco Fiorentino propone carte di credito, di debito e ricaricabili. Così puoi fare pagamenti senza contante e sei tutelato in caso di frodi. Le notifiche ti avvisano sul tuo smartphone ogni volta che la carta viene usata. Hai un rimborso del 100% per gli acquisti che non possiedono le qualità desiderate. Al Banco Fiorentino, la soluzione più adatta per i tuoi acquisti. E l'estensione della garanzia legale, da 2 a 3 anni. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Unisciti a noi. Sono il dottor Nicola Paoleschi. Da oltre 30 anni mi occupo del sorriso e della salute dei denti vostri e della vostra famiglia. Nei nostri centri risolviamo i casi complessi con le tecniche più moderne, meno invasive e non ultimo a costi accessibili a tutti. Studi dentistici Nicola Paoleschi. La tecnica unita all'esperienza. Vangi. Da oltre 50 anni, demolizioni, scavi, smaltimento rifiuti edili e trasporti conto terzi. Offriamo il servizio di noleggio cassoni scarrabili di grandi e piccole dimensioni. A Calenzano, in via di Leprata e su Vangi.it. Vangi. Esperienza e professionalità. Al servizio di chi costruisce. Dobbiamo dire, Giacomo, che durante la pubblicità Daniele non ci ha raccontato niente. È vero. È molto professionale. Però continua a mandare foto. Stavamo parlando di Gabriel Omar Batistuta, giocatore dentro e fuori dal campo. Dicevo allora che Omar era un grande individualista in senso positivo, che è la cosa che secondo me gli ha permesso di migliorarsi. Quando ero arrivato a Firenze, io ero nelle giovanili, quindi ho vissuto prima da fuori e poi da dentro la sua crescita. Quindi il fermarsi, il prendere il portiere e tenerselo per sé a fine allenamento. Esatto. È un segno di grande personalità, di grande voglia di migliorarsi. Non era secondo me un uomo squadra per eccellenza. Pensava molto a se stesso. Però in senso positivo è quello che gli ha permesso di diventare Batistuta, secondo me, questo egoismo. Poi è stato riconosciuto da tutti chiaramente il leader, se l'è conquistato sul campo. È vero, ti risulta che lui soffrisse molto con Borgonovo, il duello con Borgonovo all'inizio? Io ancora ero nel... Cosa? È più probabile che fosse Borgonovo. No, no, no. Batistuta, me lo disse lui personalmente, quando arrivai a Firenze c'era Borgonovo. Io soffrivo molto questa sfida con Borgonovo. Io non c'era ancora, quindi non c'era. Eh, appunto, eri nelle giovanili. Però aveva le gambe bianche. Il primo periodo di Batistuta a Firenze fu un periodo effettivamente difficile, perché arrivò nei primi sei mesi, addirittura c'era qualcuno che lo voleva mandare via, lo chiamavano... No, sono indertissima coi capelli. Indertissima coi capelli, le gambe bianche, quindi non si allena, significa che questo sul campo non c'è mai. Mi ricordo una partita in casa, mi sembra alla Cremonese, per dirti come siamo a Firenze, che lui prese la palla in area di rigore della Firenze, fece tutto il campo, arrivò davanti al limite dell'area e gli altri prese la traversa. E quindi tu dici, questo non è buono, ha preso la traversa, come con è, capito? Però, per esempio, è uno di quei giolatori che a me mi ha aiutato, dal ragazzino, non ero di quello che ti trattava come il giocatore della primavera. Che non ti considerava, sono stata a casa sua, mi ha portato a mangiare, quindi io ne posso solo parlare bene. E in campo come ti ha aiutato? Facendo una ballata di gol. Io comunque ero fatto un anno, 14 partite, un anno 15, non ero... No, ma io non parlo di partita, parlo di allenamenti, no? Hai aiutato, gli davi la palla, faceva gol, quindi ti aiutava. Ha risposto quel rito. Ti aiutava in quello. Guarda cosa abbiamo qua, Erika, a proposito di quei tempi, di quei... Trapporto, interpersonale, vi siete sentiti, visto che è a Firenze? No, adesso no, ci doveva andare a giocare a padel, ma sono infortunato. Ah, quando saresti andato? Così vuol dire che lui comunque andrà. Sì, c'è stato... Dove va? Ieri, ieri. C'era la grande Luciana Magistrato, due o tre giorni fa. No, ma anche di tre o quattro giorni fa. Però, guarda... A Padel. Sì, sì, a Padel. A Padel, sì, sì. Guarda questa foto, Erika, guarda. Sì? Grande Francesco Flachi. Chi riconosci, Daniele? Vabbè, Toldo lo riconosciamo tutti perché è tre metri e quaranta di... Sopra sopra. Eh, sopra gli altri. C'è Carnasciali. Io, Toldo, Carnasciali e Luppi. Ah, Luppi in fondo, sì. Questo è l'anno della serie A. E questa è un'altra puntata della Cantina Merini. Adesso ne troverò. No, abbiamo l'ultima, poi, ma la faremo vedere alla fine. Ok, vai, un'altra chicca, prima dei saluti. Alla fine, prima della... Intanto vi facciamo ascoltare invece il servizio di Fabio Ferri, proprio su Batistuta. Lo ricordiamo, è a Firenze, era al Franchi, vedete la partita tra Fiorentina e Juventus, se sarà domani alla presentazione, all'annuncio del progetto di restyling del Franchi. Gabriel Omar Batistuta sarà pure nato al Re Conquista in Argentina, ma per nove stagioni la sua residenza è stata in Viale Manfredo Fanti IV, in quello stadio Artemio Franchi, che ha fatto tremare ad ogni suo gol. Se non il proprietario di casa, dunque, un inquilino illustre, il Re Leone, che insieme ad altri grandi della storia della Fiorentina, come Antognoni e i campioni dello scudetto del 68-69, sarà presente il 7 marzo a Firenze, quando, in Salone dei Cinquecento, verrà svelato il progetto vincitore per il restyling dello stadio Artemio Franchi. 7.967 giorni dopo il suo ultimo gol al Franchi, con la maglia della Fiorentina addosso, oltre 22 anni dopo quella tripletta al Venezia, con cui si congedò dai tifosi viola e lasciò quella che era stata a casa, Batistuta sarà dunque in città per conoscere la fisionomia del nuovo Franchi. Nel maggio 2016 Batistuta visitò il Franchi con il figlio Chamel. A marzo 2019, invece, si rivide sugli spalti dello stadio in occasione della festa per i suoi 50 anni. Una festa, poi consumata in Piazza della Signoria, davanti ai tifosi che per tanti anni lo avevano acclamato. «Sono fiorentino, a volte mi allontano un po', ma ogni volta che torno mi sento a casa», disse Batigol in quell'occasione. Un fiorentino d'Argentina, Gabriele Omar Batistuta. «Varate chi è arrivato? Chi è arrivato a Firenze?» «Sono da Manuazze e Missinda, ma te ne rendi?» «Eccolo con Nardella. Allora, raccontiamo, insomma, anche proprio la vicenda resta in stadio per quanto riguarda il progetto, è legato anche al PNRR». Certo, al piano di ripartenza e resilienza, con l'ausilio della grafica del nostro video, lo vediamo. Allora, intanto ricordiamo che ovviamente questi soldi che sono stati destinati alla cultura e al turismo, 95 milioni dei quali sono stati destinati al restyling del Franchi con un bando di concorso, dei progetti che sono stati selezionati. Domani il Comune svelerà pubblicamente quale di questi progetti sarà effettivamente quello da attuare. Lavori che però devono, questo stando al PNRR, devono iniziare entro il secondo semestre del 2023 e deve finire entro il 2026. Ciò significa che la Fiorentina presumibilmente per tre stagioni giocherà le partite in casa altrove. Capolavoro. Dove le giocherà queste partite? Ma io non sono... Anche se, perché comunque c'è anche la possibilità, l'abbiamo visto anche per altri stadi, di effettuare, comunque così, per i lavori. L'Udinese. Esatto, l'Udinese. No, infatti io non credo che sia scontato la Fiorentina trasloche. Allora, prima di affrontare anche il tema con voi, giusto per completezza, vi farei ascoltare anche direttamente Nardella che aveva parlato così pochi giorni fa. approfitto per chiedere una cosa, stamattina è stato firmato un documento importante a Palazzo Vecchio insieme al direttore generale della Fiorentina, Gio Barone, si rinnova la convenzione con i club viola per l'utilizzo del Franchi e c'è stato, credo, anche un tavolo tecnico che ci sarà del Comune di Firenze e della Fiorentina per lavorare anche sui tempi dove andrà a giocare la Fiorentina. Dunque, la riunione è stata veramente molto utile, ottima, alla fine abbiamo firmato la proroga della convenzione tra Comune di Firenze e Fiorentina per l'uso del Franchi per altri due anni, ma la novità è che nella proroga abbiamo anche inserito l'apertura immediata del gruppo di lavoro Comune di Firenze e Fiorentina non appena sarà individuato il progetto finale e vincitore del concorso internazionale, sappiamo la data, 7 marzo. Quindi direi molto bene perché un'operazione così complessa che riguarda l'avvio dei lavori, il monitoraggio del cantiere e poi anche le decisioni relative a dove giocherà la squadra va fatta insieme alla Fiorentina, quindi dobbiamo assolutamente lavorare gomito a gomito e sono molto felice del risultato di questa giornata. E quindi ci colleghiamo così alle parole di Dario Nardella, il sindaco di Firenze e della città metropolitana, su dove giocherà la squadra? Ho posto anche i riflettori su questo, no anche Nardella? Intanto il dato di fatto è che la Fiorentina e il Comune hanno rinnovato di un solo anno la convenzione del Franchi, questo perché chiaramente poi inizieranno questi lavori. Sarà interessante capire domani, io non so se sia previsto uno spazio stampa, se sarà prevista una conferenza quindi potremo far domande, ma in ogni caso sono convinto che il sindaco questa cosa la farà presente. Se davvero si renderà necessario lo spostamento della Fiorentina per tre anni, che non sono pochi, o se invece potrà esserci un effetto Udine, un effetto Bergamo, perché sia lo stadio dell'Udinese che quello dell'Atalanta è stato fatto, è ristrutturato mentre la squadra giocava lì, tranne l'Atalanta due o tre partite l'ha giocata a Parma due o tre anni fa, ma poi per il resto, quindi non lo so, sarebbe un bel dilemma. Però nel caso, sarebbe un bel dilemma, vediamo, le vogliamo vedere queste ipotesi, dalla regia, vediamo una delle ipotesi. Ma voi state scherzando, ma voi state scherzando, la Fiorentina può sognare tre anni. Giacomo, vuoi vedere le ipotesi di Gianmarco? Questo è Renato Curi, bravo Gianna Casi, questo è Renato Curi, un'opzione. A proposito di Perugia, che è molto meglio del Castellani, molto meglio. Perugia allenato dal Toscano Massimo Cammini, tra i giocatori c'è anche Burrai del nostro Daniela Merini, seguito da Daniela Merini, nostro, mi sono presa questa licenza, stasera, insomma per stasera. Che sta facendo un ottimo campionato, sta facendo bene, un giocatore già a una certa età, ma sarebbe uno dei pochi registi classici che sono rimasti, vecchia maniera. Basta, penso che abbiamo esaurito. Lo può proporre l'italiano come un vice terreiro. Esatto. Forse più giovane. Questo però, questa è un'ipotesi, il Curi, che subito Giannattasio ha preso perché ovviamente è un esperto, da buon uomo della strada, logicamente, l'ha subito individuato. Altra opzione. Vabbè, l'opzione più vicina è il Castellani, eventualmente. Allora me le state bruciando tutte così, in modo vile. Questo è il Castellani di Empoli, che sarebbe un'ipotesi... Ipotesi... Plausibile. Plausibile, altrimenti, altra ipotesi, vediamo se riconoscete quest'altro stadio. Mapei. Questo lo riconoscete? Mapei. Mapei. Prima, se prenotate... Mapei Stadio. Cioè in realtà per Gianmarco è un po' un quiz, un momento quiz. No, ma è anche bello perché comunque il Mapei Stadio è comunque una bella infrastruttura, no? C'è Mediawood, anche gente, si mangia bollito accanto, sì, va bene. Grandi Lambruschi. Esatto, però ci vuole due ore andare. Beh, però sarebbe comunque una trasferta, sempre, infatti. Sì, quanto ci vuole per arrivare... Due ore e mezza. Due ore e mezza di Trento. Altra opzione, vediamo se riconoscete... Ah, ne abbiamo un'altra? Questo è facile, questo stadio, vediamo se lo riconoscete, Bologna, Bologna. Vabbè, questo sì. Basta, finito. No, però ecco, c'è anche l'Ardenza a Livorno. Anche il partenio a Avellino ci abbiamo già un'azienda, Gianmarco. Giannattasio prenderebbe la FIPI lì e si riconoscerebbe... Un'altra opzione per la Perentina sarebbe, come diceva anche Andrea Giannattasio, restare eventualmente al Franchi. Anche con i lavori in corso. Giacomo. Giacomo. No, a me sembra che, insomma, alla fine vengano fuori un po' tutti i limiti di quest'operazione. C'è un'operazione costosa, rischiosa, che costringerà la Fiorentina a giocare fuori e che paghiamo noi quando c'era un signore e avrebbe voluto farlo stare lui. Allora, io, tra l'altro... E ti sferisci a commisso. Certo, io lo davvero. E tra l'altro, diciamo che questa operazione viene fatta, viene fatta, diciamo, se vogliamo essere... Abbastanza accomodanti, non in accordo con la società Fiorentina. Ricordiamo. Io penso che quando inaugureranno lo stadio commisso non ci sarà più, ma qualora ci fosse commisso per farlo imprenditore... Mi senso che non sarà più... Non sarà più presidente da Fiorentina. Addirittura, addirittura, 4 anni. Sì, ma c'è già stancato e si vede. Allora, qual è il valore dello stadio Franchi? Che piace a Pessina, che ha le scale lecoedali, che è a Campo di Marte, che ci gioca la Fiorentina. Quindi tutti gli spazi commerciali all'interno dello stadio Franchi hanno valore se ci gioca la Fiorentina. Perché se ci gioca, buona pace, io voglio bene, la rondinella, se ci si fa giocare a tennis, non ha senso. Quindi io ho commisso, a un certo punto potrei dire, quanto mi date a me per portare la Fiorentina? In questo bel gioiellino avete fatto i soldi dell'Europa. Allora, a me sembra che questa operazione, che noi stiamo sbanderando una gran figata, sia un'operazione rischiosa, da un certo punto di vista, e come dire, neanche tanto confortevole. Dice Guerrini, nasce male. Dice Guerrini, un po' di più. Per quale motivo? Perché effettivamente il Comune di Firenze ha sempre caldeggiato l'ipotesi erica di restyling del Franchi, con integrazione anche dell'infrastruttura nel tessuto urbanistico della città. La Fiorentina invece, con un'ottica antitetica, è sempre stata per le vie brevi, cioè buttiamo giù tutto, demoliamo giù tutto e rifacciamo da casa. Parla un po' Tranchant, però non ha tutto. Se io metto 350 milioni, mi piacerebbe fare come piace a me, non come piace a Pessina, a Guerrini, a Nardella. Pessina inteso il centrocampista dell'Atalanta. Esatto, sì, ex obiettivo. Però a parte gli schizzi, a me sembra che noi a Firenze abbiamo perso una grandissima occasione, perché a differenza di De La Valle, e ci hanno fatto vedere dei plastici, che io alla radio avevo definito il vulcano dei Gormiti, c'era una osa di gomma e si vedeva, diceva guardate quanto è bello lo stadio. Questo signore ci ha fatto vedere paccate di milioni, perché a Bagnarripoli il centro sportivo costa 70-80 milioni e lui li ha messi. Quindi io credo che da parte di Commissio ci fosse davvero la volontà di fare lo stadio, di farlo bello e di pagarlo lui. Avremmo avuto lo stadio nuovo, probabilmente diciamo in un comune che non si chiamava Firenze, ma si sarebbe chiamato un altro modo, ma insomma voglio dire comunque a me poco interessava, sarebbe interessato poco, e la Fiorentina avrebbe giocato al Franchi fin tanto che non si sarebbe inaugurato quello nuovo. Tra l'altro mi ha molto colpito, torno al progetto del Viola Park, con Cappella Annessa. Erika, scusami, che pazienza, lasciamo stare Cappelle. Perché sorridi? C'è un luogo di punto annesso. Sapete cosa mi fece sorridere? Quando, ora in questi giorni è tornato di moda il Fondo Pif, ma in realtà era già uscito a novembre. Cappelle ci sono anche in campo, i difensori che fanno tutte le domeniche. Era uscito già a novembre scorso, questa cosa del Fondo Pif interessata alla Fiorentina. E mi ricordo che ne chiedemmo conto a Gio Barone, il quale ironicamente ci disse, ma certo, sì sì, al posto della Cappella nel Centro Sportivo faremo la moschea. Fu questa freddura, qualcuno piacca, qualcuno no, però insomma in effetti rende l'idea dei tempi che corrono. Insomma, freddura non senza un... Velo di polemica, certo. No, no, certo. Infatti era una battuta. Tu la ricevesti logicamente che eri sulla strada. Io ero sulla strada, sì sì, fui anche cazziato per quell'intervista. Ah sì, perché c'è da lui. Quanta verità, Certo, storia passata. Sul futuro comunque della Fiorentina ad un fondo. I cammelli sono già a Firenze Nord, si diceva. Sì, abbiamo visto la giocoricalizzazione dei cammelli, sono a Firenze Nord. È fatta. A Firenze Nord. No, sicuramente lo snodo principale è la realizzazione del centro sportivo. Quando tu realizzi un impianto, come diceva Giacomo, da 80 milioni di euro. Poi non so se siamo arrivati a 80 o magari sarà... Sapevo 90. Ecco, siamo già a 90 milioni di euro per tutti i vari scavi e reperti trovati nelle circostanze. Ecco, una volta inaugurato il centro sportivo, penso che una riflessione andrà fatta su quello che potrà essere il futuro della Fiorentina. Giacomo diceva che commisso si era già stancato, anche lui un po' tranchante. Però sicuramente, ecco, ci aspettava dal punto di vista istituzionale, soprattutto sullo stadio, che fossero ben altri toni. Dopo ne parliamo. Si è rimasto molto male per quanto riguarda lo stadio. Dopo ne parliamo, facciamo una veloce cronistoria dell'ultimo mese e dei silenzi di commisso. Col video, vuole. Lo vogliamo fare adesso? In grafica. Vuoi farlo adesso? Ma sì, dai. Allora, dalla regia, se mi seguite, con un po' di audacia, abbiamo il video sui silenzi di Rocco Commisso. E quale motivo? Ecco, no, grafica, Guerrini, grafica. Grafica. Per quale motivo, signori? Perché oggi è il 6 di marzo. Comprano del Guerrini. Comprano del Guerrini. E' passato un mese, più di un mese, dalle ultime dichiarazioni di Rocco Commisso, che furono rilasciate al sito della Fiorentina, ce le ricorderemo tutti, non sono, Erika, dichiarazioni particolarmente confortanti, sono deluso, ve lo ricorderete tutti, devo riflettere. Da lì è calato il silenzio. Eppure sono successe delle cose positive e negative. In positivo, per esempio, la Fiorentina si è qualificata in semifinale di Coppa Italia, con il golo 93esimo di Milenkovic. Cioè, sono successe anche cose potenzialmente in grado di rimotivare questo proprietario. Ultima notizia positiva, di pochi giorni fa, la Procura federale ha archiviato le frasi di Commisso sugli agnelli, ve le ricorderete tutti, no? Quelle dei mother fuckers, dei bastardi, nei confronti delle proprietà di Inter e di Juventus. Cosa sta pensando Rocco Commisso in questo mese di silenzio? Lo so che è una domanda delle cento pistola, Alessandro Paternostro, però, in questo mese di silenzio... Senti se lui sta per la strada a New York in questo mese, ma è ce lo dice lui. No, io penso che molto semplicemente si stia mettendo alle spalle un momento della sua salute non facile, che poi è stato il motivo per il quale è dovuto tornare via in fretta e furia a dicembre, questa polmonite. Dopodiché, evidentemente, ci sono state delle critiche che ha ricevuto che non gli sono piaciute. Io però, per quello che so, è destinato a tornare quando le situazioni... Sì, lo stessione su Ponte Vecchio, poi l'ascensione di Vlaovic che ha fatto tanto discutere, che ha messo nel mirino della critica anche Commisso. Però il presidente è una persona con la scorsa dura, lo conosciamo, che ama mettersi sempre in prima persona in mezzo alle cose, quindi ci mette la faccia. Per cui penso che lo rivedremo a Firenze quando starà meglio e sarà possibile fare con lui un bilancio di questa stagione che secondo me comunque rimarrà molto positiva anche se la Firentina non dovesse arrivare in Europa, perché comunque rispetto agli ultimi anni è un passo in avanti discreto e soprattutto si vedono le basi per far bene anche il futuro. Io sono perfettamente d'accordo, Don Giannattasio, sull'analisi della stagione da Firentina e sono un po' più dubbioso sulla voglia di Commisso di restare a lottare in questa città di Matti. Finceramente ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi. Da casa legano la presenza di Commisso a Firenze all'ipotesi stadio nuovo da casa, ce lo scrivono, Graziano. Lo stadio nuovo ora è una nuova. No, 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 lo faranno tutti. No, no, Graziano a quanto pare non si farà, nel senso che in questo caso si parla solo di restyling del Franchi, quindi... E domani scopriremo quale sarà il progetto. Tra l'altro, scusate, nel video vuole tutto molto bello, no? 23, 26, però comunque su quest'opera pende comunque un giudizio di una soprintendenza, che non è a Firenze ma a Roma. Sì, ma è a Roma. Io non la vedo così agevole, no? Che in tre anni si prende, si butta giù, si le fasse... Sì, ma non ti persuado questa... Vabbè, sei curioso però di scoprire qual è il progetto? Domani si vedrà. Domani si vedrà. E intanto tra poco invece continueremo noi a parlare di Fiorentina, ma non solo, ancora 1-0 tra Napoli e Milan, non gol di Giroud, non si devono, è tra poco. B Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Illuminazione da interno ed esterno, complimenti da arredo unici. Ti aspettiamo presso il nostro showroom di figline incisa Valdarno, aperto da lunedì al sabato e ogni prima domenica del mese. Vuoi efficientare la tua casa risparmiando fino al 65%? Affidati a Crida Vitalia che grazie ai nuovi incentivi ti riconoscerà uno sconto immediato in fattura fino al 65% ed il resto lo pagherai ad interessi zero su caldaie, stufe a pellet, climatizzatori, infissi, voto voltaico, pergole e tende. Chiamaci al numero 800 625 122. Alla Carini non ci accontentiamo di produrre porte da gara agli ordinari. Eh sì. Le vogliamo belle durature garantite fino a 10 anni, progettate per un minimo di 25.000 cicli. In un solo giorno sostituiamo la tua vecchia porta e con gli incentivi statali con noi potrai avere uno sconto immediato del 50%. Da buoni italiani la qualità non è una scelta ma uno stile di vita. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino a Rezzo. Le regioni di Estra, la multiutility energetica dell'Italia centrale, tra le più virtuose in Italia per i consumi energetici, lo rileva il rapporto sulla povertà energetica confezionato dall'Istituto Piepoli per conto di Estra. 16 chilometri di rete per collegare 600 imprese ai servizi avanzati della connessione ultraveloce installata la Estracom nella zona industriale di Grosseto con il sistema che porta la fibra dentro le aziende. Un nuovo Estraforum inaugurato a Chiusi, il palasport della città in provincia di Siena, ha preso il nome della multiutility energetica in virtù dell'accordo tra il comune e il gruppo Estra. Wi-Fi libero e gratuito a signa. I cittadini del comune fiorentino possono connettersi senza limiti di tempo a 5 punti Wi-Fi installati sul territorio comunale da Estracom, la società di telecomunicazioni di Estra. E' arrivato il momento del gioco del Gong e dunque i temi, dai ti do l'onore di riassumerli velocemente e intanto voi ascoltate perché poi potete sceglierne uno, un argomento a girare. Italia di Mancini che tra tre settimane più o meno sarà impegnata nei play-off per accedere al Mondiale di Qatar 2022. Ricordiamo eventualmente portazione a Napoli perché il Milan fa sul serio, sempre 0 a 1 gli ultimi 5 minuti. Quindi nazionale Mancini. L'Empoli di Andrazioli che dopo un inizio di campionato molto positivo ha avuto un, possiamo dire, semi-tracollo. Non vince da 11 partite. Non vince da 11 partite. Non parlerai di semi-tracollo però. Credo che stia facendo comunque una stagione in linea con gli obiettivi e le attivative del mondo. Certo, non vince da 11 partite. Drongoschi-Terracciano. Drongoschi-Terracciano, le parole di Agnelli sulla Superlega che ha detto. La Superlega è vivissima, c'è ancora un contratto vincolante, non è assolutamente finita. Lotta Scudetto con l'Inter che vince a Salerno, ricordiamo ovviamente Napoli-Milan che sta finendo. Allegri che bleffa quando dice che noi non c'entriamo nulla, noi la rimonta Scudetto, non ci contate perché è roba per le tre dell'Ave Maria. Rocco Comisso l'abbiamo già affrontato e Simeone, il lacrimata, cessione o rimpianto? Il lacrimata. Dai, chi inizia? Inizia Matteo Dobellini, Repubblica. Ma cosa devo fare io? Devi scegliere un tema. Scegli un tema e facciamo partire il timer. Vado su Terracciano. Terracciano, 40 secondi, dai. Terracciano è partito come secondo portiere alle spalle di Drongoschi, devo dire si è guadagnato sul campo quella che è stata la conferma. In campionata in Coppa, oggi è arrivata la conferma in campionato. Non era scontata perché qualche settimana fa aveva detto che alternava i due portieri e avevamo dato tutti per scontato che oggi giocasse uno come Drongoschi perché comunque aveva messo nuovamente in Coppa Terracciano. Se l'è guadagnato è un secondo portiere ma ha dimostrato che a 30 anni può meritarsi di essere anche un primo portiere. L'ha fatto nella Fiorentina, l'ha fatto benissimo, ha già fatto un intervento decisivo su Lasagna, giusto? L'ha fatto in Lasagna e quindi se è meritato i voti alti, se è meritato di essere... Chi sarà il portiere della prossima stagione? Meret. Cragno? Addirittura. Allora ha detto due nomi, lo chiediamo anche al procuratore. Portiere della Fiorentina stagione prossima. È venuto fuori il nome di Carnesecchi che secondo me è un ottimo profilo però non so se è pronto per subitissimo. Però se c'è la possibilità di prenderlo credo sia un'occasione da accogliere al volo. Hanno detto invece Cragno e Meret. Però Carnesecchi ha ragione perché teniamo Terracciano e lui riesce alle spalle. Tra i due eventualmente quale ti piace di più? Meret. Cragno e Meret. In questo momento dà più affidabilità a Cragno, però Meret credo come prospetto di portiere sia l'ideale per il futuro della Fiorentina. Beh, è giovane anche. Giacomo, cosa scegli? Lucca. No, Lucca non c'è. Non c'è Lucca. Se hai tentato di prendere la Superlega, ma... Aiaiaiai. Vuoi parlare del Pisa? Ti facciamo parlare del Pisa. Pisa sta volando, oggi ha segnato Torri Grossa. Ma guarda in camera quando pari del Pisa. No, perché io stavo scegliendo il tema, non c'è il Pisa. Entra Ibra, intanto. Importante. Entra Ibra, 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 Ibra all'ottantanobesimo. Hai scelto? Scelgo la Superlega, sì. Perché diciamo che Agnelli non pago della figura che ha fatto nel primo tempo, ci sta riprovando con questa Superlega. io non capisco, però se la facessero quasi quasi ci andrebbe anche bene, così si fanno il loro campionato, si gioca tra di loro e noi potremmo tornare a vedere un calcio, diciamo, un pochino più normale, un pochino più a misura d'uomo. Io penso che tutte queste scelte di fatto allontanino la gente dal calcio, non la avvicino. e come dire, la riprova sta nel fatto che queste grandi società, Barcellona, Juventus, Real Madrid, che ci avevano raccontato di essere delle grandi società e quindi delle aziende in grado di produrre utili, sono travolte dai debiti, hanno lo stadio di proprietà, hanno un sacco di giocatori, hanno contratti televisivi e hanno molti, molti debiti. Io non credo che questa sia la strada per far appassionare la gente al calcio. Tra poco approfondiamo anche l'argomento Superlega. Hai parlato del Pisa, dai, perché no, mi dai questo assist, allora mostriamo anche con l'aiuto della regia comunque la classifica della Serie B con il Pisa, che in realtà non è più in testa alla classifica, in testa c'è il Lecce, poi la Cremonese, o meglio, hanno gli stessi punti, Cremonese e Lecce, il Pisa ad un punto dalla vetta, no, è stato tante, per tante giornate proprio in testa alla classifica, adesso è ad un punto, ha vinto ieri contro il Pordenone con il gol ancora una volta di Torregrossa. Torregrossa, grande acquisto, all'attacco del Pisa, non Torregrossa è oggettivamente diventato... Giamman, vogliamo approfondire anche l'argomento Superlega? Sì, velocissimo, con una grafica che agevoleranno dalla regia. Facciamo capire bene la situazione, facciamo il punto, al quadro. Agnelli ha detto il progetto Superlega è inevitabile perché l'UEFA, così com'è, innanzitutto ricordiamo che sull'UEFA pende una pronuncia della Corte di Giustizia europea che dovrà decidere se l'UEFA effettivamente è un organismo che, secondo il diritto comunitario, è un organismo accettabile, per quale motivo? Perché secondo la tesi delle squadre società secessioniste, vediamo la grafica, l'UEFA è un ente monopolista che di fatto annulla il libero mercato e la concorrenza e di conseguenza la possibilità per queste big, queste corazzate, di spartirsi ricavi in autonomia, bene o male, secondo il loro potere contrattuale e secondo il loro bacino d'utenza. Quindi la tesi delle squadre secessioniste è molto chiara. L'UEFA è un ente che ci tarpa le ali dal punto di vista anche societario, noi siamo delle SPA e abbiamo diritto di operare in un mercato di libera concorrenza. Sì, ma l'UEFA gli ha detto fatelo, però non venite più a giocare nelle nostre manifestazioni. Non va bene. Giocate dieci volte Juventus-Barcellona, visto che avete il bacino d'utenza e vediamo quante volte vi guardano alla televisione. Io penso che metà degli Juventini inizieranno a rifare il Real Madrid perché vince più della Juventus, quindi la Juve perde subito metà dei tifosi. E poi si guarderanno venti volte la stessa partita alla televisione e noi si andrà allo stadio a vedere le squadre nostre. Tra le squadre sostenitrici comunque non ne farebbe più parte l'Inter. Vabbè, perché l'Inter sta un po' un po' là. Giusto per dare il quadro completo. Daniele, cosa scegli? Che tema? Scelgo Allegri, dai. La rimonta Juve. È stato mio compagno di squadra a Pistoia, mi sento abbastanza. La rimonta Juve, l'ho già detto prima, ha un calendario accessibile adesso, quindi deve massimizzare come punti fino, ripeto, le prossime due partite e arrivare allo scontro diretto con l'Inter. Il problema, come ho detto prima, è che ci sono chiaramente il Milan che sta vincendo e il Napoli, che sono altre due squadre. Forse il Napoli col calendario anche migliore, quindi io credo che sia un po' un'utopia alla rimonta. Però, secondo me, Allegri ci ha insegnato che è un vincente e la Juve, secondo me, solo con lui e con questa squadra che ha quest'anno, che non è secondo me il top, può arrivare a... Adesso ti abbiamo ascoltato sulla rimonta della Juventus, adesso vogliamo sapere, però, Allegri, compagno di squadra, come è, come non è, cosa puoi raccontare. Intanto in Milano è... Oh, bravo lui, è questo. ...a raddoppio, 5 minuti di recupero, 6 minuti di recupero, 6 minuti di recupero. Al 94esimo sono 5-6 minuti di recupero, ancora 1-0 gol di Giroud. Daniele, Massimiliano Allegri, cosa ci racconti? Cosa non sappiamo di Allegri? No, non sapete, non si sa tutto. Tanto non sappiamo, dai. No, è un... guarda, è il mio compagno di camera, quindi è un compagno divertente, è simpatico, ora ha un difetto, appunto, però, che è gobbo. Però io credo sia anche simpatizzante verso la Fiorentina. Io credo un compagno di squadra ideale, era già più vecchio di me, però era uno che convergeva tutto il gruppo, che ti portava fuori, ti portava... Come erano le serate con Allegri? Divertente. Fin dove si possa raccontare, diciamo. Divertente. Andrea, cosa scegli? Scego Mancini e la Nazionale, dicendo che è triste che la Lega non abbia secondato la Federazione nello spostare il turno della giornata, non prossima, ma quella dopo, per garantire quantomeno qualche giorno in più di preparazione alla Nazionale, per il play-off, ha davanti a sé un'impresa molto difficile, perché se la prima semifinale è abbordabile, l'eventuale finale con il Portogallo laggiù è un impegno proibitivo, io faccio fatica a pensare che in Qatar preferiscano rinunciare a Cristiano Ronaldo che ai nostri giocatori, dico però che in questi mesi, dopo l'Europeo, si sono messi in luce tantissimi giocatori, secondo me, che possono fare al caso della sua Nazionale, il reddivivo Zaniolo e soprattutto i ragazzi del Sassuolo, Aspadori, Scamacca e Berardi, che possono essere utili per arrivare al Mondiale. Giusto questo. Oltre ai soliti noti, quali sono i giolli che negli ultimi mesi portereste eventualmente, nell'ipotesi, al Mondiale. Stiamo intanto, anche mentre poi Andrea e Daniele rispondono alla classifica aggiornata, esatto, con la vittoria del Milan a Napoli e dunque aggiorniamo la classifica, questi sono i risultati della giornata di campionato, la ventottesima che si è conclusa, era il posticipo, quello tra Napoli e Milan, da uno sguardo allora alla classifica con l'Inter che non è più in testa dopo la vittoria contro la Salernitana, davvero insomma stragrande vittoria, il Milan adesso a 60 punti, Inter 58, Napoli 57 e poi c'è la Juventus di cui abbiamo appena parlato a 53, è lì vicinissima, l'Atalanta invece poi a 47, i punti della Roma dopo la vittoria della Roma all'Olimpico proprio contro l'Atalanta, ricordiamo ancora una volta che però in questa classifica ci sono delle squadre che dovrebbero avere un asterisco, perché sono le squadre che devono ancora recuperare una partita, l'Inter deve recuperare la partita contro il Bologna, l'Atalanta contro l'Udinese e anche la Fiorentina un'altra partita contro l'Udinese, stavate rispondendo poi alla domanda di Gianmarco? Sì, oltre ai soliti noti, chi portare al Mondiale Jolly degli ultimi mesi, chi si è messo in mostra? La portare al Mondiale non lo so, però da attenzionare secondo me Bellanova del Cagliari, che è un terzino che io conosco da quando fa l'Under 15, l'azione giovanile, si era un po' perso, secondo me per una scelta sbagliata era andata a Marsiglia, a Bordeaux, fuori dai radar, diciamo, calcio, e ora sta recuperando, ha una corsa impressionante, piace molto anche a me, è dell'Atalanta, se non mi bagno, hai scelto Matteo? Dovrei, sì, mi sembra sia dell'Atalanta, omologato sia da Amerini e da Natale, so che la Fiorentina io mi sono informato perché, sempre sulla strada? No, via sms stavolta, via whatsapp, con uno dell'area tecnica della Fiorentina, so che lo stavano seguendo, però piace fino a un certo punto, peccato perché come Daniela anche a me piace moltissimo, sia a destra che a sinistra può giocare. Cosa scegli Matteo? Ma prima citava Giannattasio, il Zaniolo sicuramente, il calciatore mi sembra si stiava. Deve scegliere uno. No, vabbè, però se sta rispondendo, ma prima concludi la risposta, quindi chi scegli allora? Il Zaniolo sicuramente, come pensavo ai tre del Sassuolo, Raspadori, Scamacca e Berardi, tra i tre chiaramente in questo momento Scamacca perché la Fiorentina, cioè la Nazionale non ha un problema, ma insomma ha una necessità di risolvere qualcosa là davanti. Cosa scegli invece di tema? Non posso che andare da commisso. Dai. Il Presidente della Fiorentina, abbiamo parlato prima insomma di quella che è la sua presenza o no, domani non ci sarà chiaramente in comune per la presentazione del progetto di restyling, ci sarà Gio Barone, sicuramente il direttore generale. È chiaro che la presenza di commisso sarà fondamentale al termine della stagione o comunque quando sarà per programmare quello che è non solo le strutture, quindi con l'inegurazione poi prossima del Viola Park al termine di quest'anno ma per la prossima stagione. Le basi sono state gettate con Vincenzo Italiano, alcuni calciatori sono messi in evidenza, c'è tutto per progettare quella che è la permanenza nelle zone alte della classifica e il ritorno in Europa della Fiorentina. Non hai mai avuto rapporto con il commisso o sì, però conosci meglio Barone, Gio Barone? Sì, con il commisso me l'hanno presentato in un ristorante così ma non ho avuto chiaramente rapporto. Quindi non lo conosci insomma personalmente? Sì, con Barone sì. Con Barone sì. Barone e Pradè sono chiaramente a capo dell'area, diciamo dell'area. Vedi nell'area, nell'area scusami, la possibile vendita della Fiorentina a breve? Io non ho sentito niente, però sentendo in giro chi ha le notizie sembra che qualcosa ci possa essere, però io non ho sentito niente, non ho notizie più quali. Ma però una domanda per gli ospiti ci sarebbe. Vai Guerrini, vai. Una cosa al volo sul commisso, perché quest'uomo ha un grosso merito, perché noi adesso stiamo parlando dell'eventuale cessione della Fiorentina, ma è finito il discorso, se va via lui si torna in C2, la neva a Gualdo, senza di questo mesi fa, ecco, questa cappa che c'era su Firenze sembrava che nessuno potesse mai essere interessato alla squadra di calcio di questa città, grazie a Commissolo, gli uomini più ricchi del mondo che si è comprata, insomma se ne è andata via per sempre e quindi possiamo ragionare tranquillamente mi piace Commissolo, non mi piace Commissolo, la squadra è forte, potrebbe fare di più, potrebbe fare di meno, ma non c'è più nessuno che ci dice se vuoi tornare C2, comprala te, bene, siamo tornati a essere finalmente una città normale come tutte le altre città d'Italia, quindi anche per questo grazie a Commissolo. Poi credo che lascerà un grande asset che è il centro sportivo, se dovesse chiaramente Dalla regia abbiamo una grafica che descrive un po' i tre anni, non dal punto di vista sportivo, ma ai tre anni, Erika, dal punto di vista gestionale di Commissolo, perché tante volte poi i fiorentini hanno la memoria corta, ci si dimentica anche del fatto che questa è una proprietà che come ricordava Giacomo Guerrini ha messo anche delle risorse importanti, magari dalla regia ce lo fanno avere, però intanto vai avanti Erika perché vedo che la grafica non arriva. non solo ha messo il risorse, ma ha provato con tutte le forze a trattenere i calciatori e sono voluti andare via, perché quando si ci hanno venduto non hanno regalato dei calciatori che comunque a Firenze non sono voluti rimanere seppur di fronte a offerte molto, molto importanti a parte di questa proprietà, cosa che non avveniva da tempo a Firenze. Beh, appena arrivato comunque ha trattenuto Chiesa, è riuscito a trattenere. Ieri Leonardo Petri, qua dagli scranni di a tutto gol, diceva che la cessione di Vlaovic a gennaio è stata una scelta della società. Dall'altra parte invece eccola qua, la grafica di commesso a Firenze. Ecco, guardate gli investimenti sui giocatori in tre anni, 163 milioni. Petri diceva ieri che la cessione di Vlaovic è stata una scelta di una società interessata alle questione, al quattrino. Facevamo notare in base a questa grafica che una società che spende 163 milioni in giocatori, oltre ovviamente agli 80 milioni di euro sul Viola Park, mi sembra il ritratto di una società che pensi esclusivamente al quattrino, mi sembra una società che non si fa problemi, ecco, vai Andrea. Ne ha incassati 60 per Chiesa, 80 per Vlaovic, quasi 40 tra Simeone e Veretù. Però è un dubbio che ha investito. Cessione di Vlaovic, cioè voluta o cessione o torto collo? No, no, per forza, no, no, Giacomo ha detto una cosa giusta, non è che li hanno venduti mettendo il cartellino vendesi. Io resto perplesso da un punto di vista sportivo sulla cessione a gennaio di Vlaovic, però non posso discutere l'aspetto economico, è chiaro che l'avresti venduta molto meno tra qualche mese. Comunque, scusami, vorrei dire questo, perché l'avete raccontato voi giornalisti, cioè quando, perché io mi metto qui come tifoso, io non sono giornalista sportivo, perché io non ho notizie, non faccio questo mestiere, tifoso sportivo. Sei un essere angelicato tu, cioè faccio un'altra roba. Vabbè, stringiamo perché abbiamo poco tempo. Non ti arrabbiare, volevo soltanto dire che quando il Coministro torna a ottobre non riesce a parlare con Vlaovic, si arrabbia come una bestia, è stato raccontato che il Coministro ha detto vendetelo appena possibile, tant'è che a Firenze c'è stato un gruppo di tifosi che avrebbe voluto già concorre in fine gennaio. Il dato, non è stato un discorso economico, è stato il Coministro ha detto io questo non lo voglio più vedere, appena potete vendetelo. L'ha venduto prendendo tutti i soldi sull'articolo. C'è chiaro, chiaro. Io sull'aspetto economico non ho da dire niente sull'accessione di Vlaovic, è un'operazione con i fiocchi e qualsiasi operatore di mercato, Presidente Daniele, penso possa apprezzarla. Dico solo che la Fiorentina ha chiuso il giugno d'andata al sesto o settimo posto e rischia secondo me, con questo cambio in corsa, di magari perdere qualche posizione. Poi sicuramente era una scelta calcolata, va bene, resto un po' perplesso io sull'accessione di Vlaovic. Ma non è stata una scelta economica secondo me. Avevi una domanda? Sì, una domanda è la seguente, me l'hai fatta quasi scordare. No, la domanda è la seguente. Ti risulta cosa rispondi a chi sostiene che Vlaovic sia andato, sempre dalle tue fonti di strada, a gennaio dalla dirigenza della Fiorentina a dire io vi do l'opportunità di prendere 70 milioni ora, se non prendete 70 milioni ora io vado a scadenza, i soldi non li vedete più. No, secondo me non è successo questo. Secondo me molto più banalmente sarebbe accaduta un'altra cosa, che Vlaovic in estate avrebbe rifiutato qualsiasi destinazione e la Juventus si sarebbe presentata il 31 di agosto, prendoti 35 milioni e tu zitto gli dovevi dare a 35. Perché se anche fosse ritornato l'Arsenal, se fosse ritornato l'Atletico con 70 quest'estate, lui e il suo procuratore avrebbero detto di no a tutto, perché volevano andare alla Juve. E allora tu, società, fai una scelta economica, lo vendi a 80 adesso o ne prendi 30 all'agosto. Daniele? No, no, secondo me la strategia dell'entourage del giocatore, poi chiaramente il giocatore a balla, io credo sia stata quella, ad arrivare a scadenza, sapeva che era un giocatore comunque indispensabile, che non sarebbe mai finito in panchina, che comunque avrebbe dovuto giocare fino a giugno titolare, comunque sia sempre, lui puntava a quella, arrivare a giugno, arrivare alla scadenza e avere poi, ce l'aveva già al coltello della parte delle mani, ma avere proprio totalmente, e quindi alla fine la Fiorentina ha massimizzato, secondo me, quello che poteva ottenere, ha fatto un'operazione, secondo me, insomma, alla fine ottima da un punto di vista di mercato. Probabilmente, se è stato fatto un errore, è stato fatto prima. Secondo me la Fiorentina era convinta di convincere il giocatore comunque a filmare. l'estate scorsa. Per il nome. Daniele, è il tuo turno? Ho già fatto. L'ho fatto a legge. Già fatto? È il secondo turno, certo. Prendiamo Lempoli. Portiere? Simeone? Portiere l'ha fatto Matteo. Portiere l'ha già fatto. Simeone? Perisic sarebbe la corsa Scudetto. Perisic sarebbe la lotta Scudetto. Simeone, dai. Prendiamo Simeone. Rimpianto? È un rimpianto, secondo te? No, secondo me no, No, assolutamente no. Per te, non secondo te? No, no, per me no. È un giocatore, secondo me, non da prima fascia, anche quando era a Firenze, comunque sia, secondo me era un giocatore che ci stava preciso, un buon giocatore, ma non sposta gli equilibri, segna periodi sì, periodi no, quindi non è mai continuo. Allora vi inserisco, c'è comunque un giocatore, rappresenta anche il Verona, no? C'è un giocatore del Verona che invece vedresti bene nella Fiorentina? Ruberesti al Verona? Ora Barac, chiaramente. Barac è un giocatore che è cresciuto tantissimo. Lui. Vabbè, puoi concludere la frase, però. Barac è molto intimurito dal Kong, è uno dei quei giocatori che porterebbe in dote anche gol, perché è un giocatore da 10 gol al campionato. Ultima scelta, Andrea. Aurelio Andrea Zoli, e quindi Lempoli. E intanto è arrivato il segnale che siamo alla... Sono convinto che gli azzurri si salveranno sicuramente, io penso che le ultime tre di ora saranno quelle che le procederanno. Certo fa specie questo doppio binario degli azzurri che hanno fatto un gioia d'andata simile a quello della Fiorentina, l'avranno chiuso a 6-7 punti sotto, non troppi. E ora sono in calo vertiginoso. Dopo la gara col Bologna, la Fiorentina va a San Siro con l'Inter e dopo c'è il derby al Franchi con Lempoli. Ecco, mi auguro che il buon nonno Andrea Zoli lascia in dote quei tre punti che secondo me avrebbe dovuto lasciare anche a Castellani all'andata, perché la Fiorentina... 27 novembre. Quella partita meritava assolutamente di vincere. Allora, se ce l'abbiamo il calendario, mostriamolo un attimo il calendario della Fiorentina, i prossimi appuntamenti, intanto Firenze e Santa Maria Novella, che ci accompagna verso la nana. Ci accompagna verso i saluti e ci segnala. Insomma, dobbiamo salutarci, non prima di mostrarvi i prossimi appuntamenti, gli impegni della Fiorentina e di mostrare che cosa? Abbiamo la chicca dell'ultima fotografia. L'ultimo reperto della Cantina Merini. Vero, Daniele? La commenti tu? Qual è? Fa vedere. Eccolo qua! Questa è serie A. Sempre in serie A. Così allo sta il Franchi. Ecco, io credo sia una... giocare al Franchi, la Maria Fiorentina. Facevi una grande fatica in quella squadra, perché gioavi c'era Rui Costa, Batistuta, Baiano, Robbiavi. Spesso erano molti in attacco. Poi in mezzo c'era Di Mauro, giocava grande, l'intelligenza è incredibile. Hai un bellissimo ricordo, però no? Per me gli anni più belli. Allenatore c'era Gerrani. Ero spensierato, giovane, avevamo la Ferentia. Con i capelli. Con i capelli. È arrivato il momento dei saluti, io ringrazio lo studio di questa sera, ovviamente ringrazio anche Gianmarco che ritroverete sabato, venerdì invece a tutto gol con Greta Beccaia. Domani l'appuntamento con Andrea Vignolini, La partita sempre con Andrea Capretti, grazie a voi di essere stati in nostra compagnia, buonanotte.